Ciao Fabio Ciao Sì infatti sono andato online E' arrivato Fabio E comunque Avevo letto che Tu conosci la storia di Bill Murray Che ha buttato a uno nel cestino Da piccolo No Ho letto sta storia Non mi ricordo se è un attore Un regista famoso Che diceva che quando era piccolo Non lo so Aveva fatto incazzare Bill Murray Perché tipo Per una cazzata E stavano tipo a un party E lui non lo so Gli aveva rubato le patatine E cose del genere Allora Bill Murray l'ha preso dalle caviglie E l'ha buttato dentro un cestino Da monnezza E' fortissimo Bill Murray Che forza ci vuole No ma era un bambino Perciò l'ha preso Ah però lui era grande Sì no Non era una cosa di Bill Murray da bambino Era Bill Murray da grande Con uno che oggi è grande Ah ok Non me l'hai detto Però all'epoca era bambino Ma c'era pure Cicalone Può darsi Non era politico Bill Murray in questo soggetto Sì 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 Matt buonasera Quindi Freeplane Day è diventato il giovedì Ma per la puntata editata è sempre stato il giovedì Però no Poi oggi è mercoledì Infatti 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 È diventato Ah grazie doctor Buon anno Grazie Pancadì Per la sottoscrizione Bill Murray Picchi e bambini No ho letto quest'anedoto Anedoto Tra l'altro Con L Sì quest'anedoto Che c'è questo L'ha raccontato Ciao Mirkotto L'ha raccontato questo Questo tizio Che oggi è un attore abbastanza famoso Non mi ricordo chi Che dice che da piccolo Si trovava tipo a una festa Dove c'era anche Bill Murray E lui non so che cosa ha fatto Che Bill Murray si è incazzato Ma una cazzata Di tipo Gli ha Gli ha rubato le patatine Gli ha bevuto nel suo bicchino Non lo so Bill Murray si è così incazzato Che l'ha preso dalle caviglie E l'ha buttato dentro Un cestino Di caposotto E dice che lui è rimasto traumatizzato E a questo punto lo devo vedere Allora Bill Murray Via Chestings Eh si no Anclet Che tu le caviglie Seth Green Seth Green Ha fatto proprio Ciao Mattè Ciao Ciao Mattè Ha messo nel cesto Ciao Eh si si Tipo I bulli dei Simpson Seth Green ha detto che la Eh Perché Non si può sapere perché Perché Sta Dietro il paywall Però Si è stato lui Vabbè dai Ho qua la faccetta da cazzo Seth Green Chissà che avrà fatto Avrà fatto tutto bene Guarda dai Tra l'altro Famoso insomma Cioè lui che cazzo fa Che film ha fatto Lui era Il lupo vannaro di Buffy Se mi sbaglio È vero Sì è lui È lui Infatti stavo per dire io Il lupo vannaro di Buffy Ma io non ho mai visto Buffy Ma hai invecchiato mezzo secondo Ma cazzo Eh per quello è stato il cestino È come Achille Quando l'hanno Ah ecco Di perso Nell'ostige Ha 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 La mia sedia E Ci sta La mamma gli ha detto Di spostarsi E allora Lui non l'ha fatto E Bill Murray L'ha preso dalle caviglie L'ha buttato dentro Un cestino della monnezza Giusto E sua mamma Ah sì Fallo di nuovo Il classico fattuone Dice Brothers Bah io Ho sti attori Onestamente Non Poi con sti capelli Mi sembra Il taglio alla lapo Quindi No Bill Murray Lo riconò Ma ripeto Bill Murray Simpaticone Negli anni Ottanti Ghostbusters Però Cioè Deve essere veramente Una merda Di perso Cioè Porca puttana Sto seduto Da una parte Con un bambino Nella presa È proprio una merda Basta La fanculo Allora Fammi spegnere qua Bill Murray Distrugge Vediamo cosa dice Big George E qui faccio Che si dice Come sta Fabio Come sta Tutto a posto Tutto bene Matteo Tutto bene Tutto a posto Tutto a posto Bene Tutto a posto Bene Bene Vampire Survivor Come procede Ho smesso Io ho comprato DLC No L'ho neanche toccato Vampire Survivor È come Gli amori estivi Quando è Brucia Però Si Ti saurisci In fretta Ho sentito La puntata Di ieri Che c'era Io sono Dalla parte Di Carmelo Comunque Che è una roba Eh Un po' Si Un po' Poveredato Però Vabbè Finché è Gratuita Diciamo Poteva essere Molto più Pericolosa Un hype train È chiuso È vicino Grazie doctor Che sei iscritto Per 60 mesi Grazie doctor Ludo Tu non lo ringrazio Doctor Bravissimo Bravissimo E poi ce lo sufero Lo streak competitivo Di Mattia Beh Mattia Lo superi Eccolo qua Lo superato Siamo al top 63 mesi Wow Live training Coming Allora Facciamo lo spammino Che siamo in diretta Oh wow C'è Diablo 2 Su Switch A 13 euro E credito Parola di baffo Tra l'altro L'ho visto L'ho visto Che c'è? Ho capito Diablo 2 A 13 euro Su Switch Compra Compra Amazon Regala Devil Within 2 Eh non è male Il Prime Hanno finito i giochi Del Neo Geo Mi sa Quindi Cominciando a mettere Qualche gioco Un po' più L'ho regalato Praticamente Immondizia Per 4 anni Poi mi ha detto Dai regaliamo Qualcosa che la gente Poi effettivamente Giocherà Ah su GOG Lo regala Ah si Allora Lo so Cos'è questo Grazismo Chi cazzo Lo usa GOG In Polonia Cioè la gente Non usa Epic Che ti dai giochi gratis Un gioco gratis Al gioco Non usare GOG Ah Sono DRM free E capirai Pure su Pirate Bay Sono DRM free E non c'è neanche bisogno Grande Fiordo Pizzo Stasera Super E inizia la grande Il 2023 Dai ragazzi Dai Io lo uso sempre GOG Lo preferisco a Steam E vabbè Allora Come non detto Io uso Play Night Che è il launcher Dei launcher Che Comprende tutto Di più Ve lo consiglio Ma anche GOG Non doveva essere Il launcher Dei launcher Nel senso Si Lo puoi usare Che ci puoi mettere Tutti i giochi dentro Si si No ma Io Ogni tanto Lo lancio Perché io ho fatto Lo script Il file Bet Batch Messedoschi Mi lancia Tutti i launcher Insieme Tipo che Il pc Zompa A 120 gradi Quando lo lancio Metà RAM E soltanto Di launcher Metà RAM E metà Sì Gli hard disk Che friggono Però vabbè Giusto per Per aggiornarli Tutti quanti Perché sai Poi magari Ne apri uno E si deve aggiornare Quindi io mi tengo Sempre a male Non gioco Ma tengo tutto Aggiornato Giustamente È quello il gioco Scusa Sì infatti Ormai Ormai sì Tengo tutto Aggiornato E fare le carte Di Steam Quello è veramente Il metagame Definitivo E E quindi Ogni volta Però Poso GOG Mi dà sempre Non mi sono riuscito A collegare a Ubisoft Steam Si è disconnesso Rockstar Games Non va Poi I plug-in Che dovrebbero funzionare Tipo plug-in Non li aggiornano Da un sacco di tempo Quindi mi sa che Ciao Eccolo Ciao 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 Eccolo Ma Chi è Odioso Ma Ma Che c'è Che su Switch Skyrim Anniversary Edition A 69 euro Ancora Stoccazzi Skyrim 69 euro Ha rotto A me Skyrim ha rotto il cazzo Dopo le prime 5 ore Tipo Quindi ve lo dico Vettetevi il cuore in pace Quelle prime 5 ore sono tipo il tutorial Sì esatto Io dopo il tutorial L'ho fatto Da quello Che fa Che l'ho giocato 5 ore Ha visto Ma Allora Chi è Ma E comunque Stavo dice Invece Play Night È super aggiornato E supporta molti più store Supporta anche I ciaio Gli emulatori Lo store di Tu Supporta tu Anche Game Jolt Forse No Game Jolt Mi sa di no Lo supporta veramente tutto Quindi Se non l'avete mai È free Quindi se non l'avete mai Provato Ve lo consiglio Per gestire tutti I giochi su PC Con tutti i vari Launcher Altrimenti poi Launcher Come no Riesce anche a lanciare Immorality Il nuovo gioco Benissimo gioco Sì sì Quello nuovo Che è uscito Quest'anno Cyberpunk Non so se Sì sì Il miglior gioco Nel 2023 Pruttosto Allora Ho notato Una punta Di sarcasmo E di Proprio No no C'era tutto un braccio Di sarcasmo Mi sa altro Che l'ha perduto Ovviamente Stai sto scherzando Dovete sapere Cari amici A parte Recuperato i mustacchi Di ieri Per sapere Quattro scena Di Biggio Ultimamente Ne ho diversi Come dire Segno Della mia Ormai Del mio decadimento Mentale Sempre più costante C'è un po' la testa Tra le nuvole No ma Ce l'ho da 37 anni Circa Esatto No Purtroppo Dura 37 anni Questa cosa E quindi Per sapere Tutti i retroscena Di Stefano Ci sono nuove Importanti Novità Ma c'è un'altra Retroscena Che Stefano L'altra sera M'ha sognato Si è incazzato Con me Che ne è sogno E poi Si è svegliato E incazzato Con me Nella realtà Come le femmine Quando si incazzano Si incazzano Magari Che vedono Uomini e donne E poi I uomini Siete tutti così E' esattamente Quello Io E' andata Proprio così No no Ma davvero Io mi sono svegliato E ho fatto Guarda qua Bruno Come cavolo Poi ho fatto No aspetta Ma era un sogno Esatto No aspetta Era un sogno Bruno Ed era Praticamente Era una specie Di versione light Di una cosa Che mi è successa Davvero Nella realtà Ma dove Bruno Non è che non c'entrassi niente Ma non era neanche Come non è che non c'entrassi niente Non c'entrava niente Appunto No no Ma infatti No non c'eri proprio Cioè era proprio una roba Ma forse no Stefano Non lo so Assolutamente Spero partire di no Visto che so dove abiti Eccetera eccetera Grazie Stefano Che ti sei scritto Sai dove abito Io non ti ho mai detto Mi hai spedito Il Dreamcast Ah hai detto Ho spedito il Dreamcast Ma quello c'è il destinatario C'è un imitente C'è un imitente E ti sei conservato Tipo il foglier C'è tipo l'altarino Con tutte le cose mie Tipo i serial killer Con tutte le robe Sì sì Anche Tutte le foto Questa è un'unghia Che si è staccata Questo è il pelo Il Dreamcast C'è un pelo Del braccio Capito Lui dice Infatti io in cantina Ho il piccolo clone di Bruno Sta crescendo Capito Che sta crescendo No 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 Non me lo ricordo L'ho buttato sinceramente Bruno è eccellente Cioè in cantina Magari 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 È sempre B E B Sempre Perché C'è Bueno E' eccellente Biggio E Bruno E' eccellente Biggio Che è il giamello Buono Credo Ho rivisto Batman v Superman Film orribile Ma c'era anche Wonder Woman Là no Nell'ano Nell'ano No no La Virgola no No Sì Mi pare di sì Sì perché si menavano Male E le prendeva Anche Wonder Woman Lei è con te No Comunque quella cosa Di Marta È veramente Nella storia Ma donna santa Ma chi è Marta Come ti chiami Marta è tua madre Sì 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 Ma anche mia madre Ma Ma noi siamo fratelli Ma anche a te piace il baseball Anche a me piace il baseball Ma infatti Fiordo Perché te lo sei rivisto Sì in effetti Cioè Ti permette Ti voleva punire Per qualcosa Adesso per penitenza Addirittura rivederli No allora Vederlo Una volta Sì Rivederlo Magari è uscita La Director's Cut Qualcosa La Director Sì sì Il gatto del reggito 26 ore Fa tutto del reggito Fa tutto del reggito Fa tutto Diretto Director Scat No Scat SCat È in casa Di Snyder In effetti Sì Come Scatman No invece la Snyder Cut Guarda che è Pizza ragazzi Oggi ho recuperato Na na ni Na 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 Ma la versione Scusa ma la versione Di Leone di Lernia Te la ricordo Sì ovviamente La 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 Pesce fritto Baccala Quella cioè Quella originale Era un po' così Quella di Leone di Lernia Era Cioè Capolavoro Era Da Antoniologia L'ha definita Fiordo dice L'ha recuperato Perché al cinema Mi fece pisciare Da ridere Ma ero in compagnia Da solo è brutto Ma quindi Si stava tutto il tempo Al cinema A fare battute Allo schermo Però non si fa Dai Beh è un film Che si fa da solo Le battute Dai No ma Il problema è che Sei andato a vederlo Al cinema Cioè Penso pure io Sì è partita La sigla Eh lo so Quando la metto Parto da solo Perché Come dire Io Io sono un certo Cioè nel senso Io poi sono famoso Per andare al cinema A vedere i film Sbagliati Tranne Dune Finalmente ho azzeccato Quale film vedere Al cinema Ma quale Ovviamente Sì dove avevo Un anno Tre anni Non mi ricordo Quando ne avessi Quando è uscito No no L'ultimo Che era effettivamente Da vedere al cinema Solitamente invece Sbaglio Vado a vedere Batman 3 al cinema Invece del 2 Vado a vedere Endgame Invece di Infinity War Al cinema Insomma Ho tutta una serie Di problemi Di problemi Vari Anche A cui si annoverano Anche questi Purtroppo E E quindi dico Ecco Ma dato che c'era C'era Ben Affleck E l'altro Cavill Ed era una merda Ma a vedere il trailer Perché? Ma soprattutto Perché? Vabbè dai Sentiamo cosa mi dirà Cosa dirà Fiordo Brother Ti si è mangiato A banana E se c'è parmigiano Eh lo so Quello era Rhythm of the night Sì 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 Rhythm of the night Top Gun Top Gun Maverick Al cinema Figuerimo Mentre a caso Eh sì Vabbè dai Quello Può essere Sì dai A parte le scene Di Tom Cruise Che lo alzano Di 20 cm In su sul letto Per stare La stessa altezza Di Di cosa Lui è l'unico Che anche orizzontale È basso Praticamente No ma C'è Proprio quella scena Che parlano Sai Dopo che hanno trombato Che parlano Che stanno Tutte due sul cuscino Ah e lui però Ha le gambe Sì e lo inquadrano Cioè si vede Che lei sta solo Con la testa Sta tipo Alla parte bassa Lui invece sta tipo Con le spalle Sul cuscino Per far vedere Che c'è Se potessi Ciao Rob Rob se vuoi salire Fai un fischio Che Ti buttiamo dentro E Visto che poi Diciamo Ah ma avete invitato Solo voi Di mustacchi Quindi dobbiamo pareggiare I conti qua Ma no Rob era Era il tappabuchi Perché non c'ero io Ho capito In realtà Era solo No non ti preoccupare Allora vieni Rob Sarai l'ospite d'onore Esatto Quindi Ludo mi dispiace Però Ci dispiace Ma lui non è noi Youtuber Per questo Noi lo prendiamo In considerazione Come persona Come essere umano Ecco Esatto No cazzo Quanti Quanti iscritti Si è arrivato Ludo Su tuo canale Dieci Non lo so Adesso ci guardo Su tiktok Al contatto Live Non lo so Fa finire di non sapere 212 mila Su youtube 212 mila Quando è che fai un bel video I podcast migliori d'italia Esatto Allora Al primi 5 posti C'è free playing E poi chiudi il video Finito Cosa Dici Esatto Menzione speciale Retrocut Dice Mustacchi Eh Mustacchi Ne ho sentito parlare Una volta Una volta Esatto Quei giovani Perché adesso Non so se i denti Di podcast Sono in forte Sono questa cosa nuova Che sta nascendo adesso Mica Quanto messa sul cazzo Sta cosa Cioè Non avete Ebbè porca puttana A me lo dici Cioè Sì adesso Lo fanno tutti Ognuno esprime Robo ho detto Se vuoi salire Fai un fisco Che ti Anzi Ti do il link Che mettiamo in mezzo Così ci racconti Le ultime 20 stagioni Di The Walking Dead I lavoratori morti Spera io non ho capito Dove sto salendo Cosa stiamo facendo Tu non stai salendo nessuno Tu sei già qua Dove Stai ascendendo Stai ascendendo Tu non devi andare Da nessuna parte Ho già fatto No no Tu stai già fatto Tutto a posto Tu stai qua Fermo Sì A te Ci abbiamo già pensato A te Sta senza pensieri No io Sai cos'è la cosa sorprendente Che quando è uscito Avatar Avatar è il secondo La via dell'acqua Avatar Sì sì E praticamente Mi sono fatto un po' in giro Per i vari podcast Vari video opinioni Tu potevi fare Come nei Simpsons Quando Homer Gira canale Velocissimo Ah esatto Perché c'è sempre Homer Che formano la stessa identica frase Lo potevi fare anche con Avatar Cioè non c'è Ah sto film fa merda Ma così No tutti Eh però beh Cioè Pandora È questo mondo Dove tu ti Ti immergi Non puoi più andare via Eh giustamente Se non ti immergi Nell'acqua Vivo in mezzo No vabbè Io immagino Sta gente Che vuole vivere In mezzo a Praticamente Cos'è La savana Io non ci vivrei No non la savana Scusa La foresta amazzonica La foresta amazzonica Con Pocahontas Con la coda Non ci vivrei nemmeno morto La prima volta che Scopare con la coda Era una scoppa Una coda in culo Da mettere in sia Allora In primis In primis Potrei averla Già In questo Già Adesso E tu non lo sai Perché Non mi hai mai visto Nella stanza Con una coda Mi hai Soprì Eh Caro mio Eh Ah giusto Questi anni Di esperienza Nella 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 Tossicodipendenza Esatto Mi hanno reso Scaltro Come una faina No Qua vedo Chiavatar Trailer Morire da ridere Ma credo che sia Un ridoppiaggio Di quelli Ah il 3 È il 3 Quello Riderissimi Eh No Oggi ho letto un tweet Che diceva Se il secondo è nell'acqua Poi dovranno fare Quello nel vulcano Quello nella foresta Eh Esatto E quello dell'acqua È quello più brutto È complicato Non mi sa che lo fanno davvero Eh Il pericolo è quello Speriamo Paolo Chiavator Presenta Bello Chi ha detto Ah comunque ho visto Anch'io Avatar Bravo Ma te Siamo per dirti Esatto Il secondo Ma poi ho avuto il coraggio Anche tu non volevi Il primo L'hai visto Esatto Ah eh sì Appena sono uscito dal cinema Caduto in depressione È fatto come gli americani Che sono andati a chiedere All'agenzia di viaggi Per organizzare un viaggio in Wakanda E gli hanno dovuto dire Che il Wakanda non esiste Ed è successo davvero E loro dicevano No Come non esiste Ma è in Africa Adesso nel Wakanda Non esiste Esiste all'Africa Scrivo una lettera agli Avengers E vediamo cosa Sì E in più Sì sì Non scrive neanche più in chat Quindi veramente Avrà tipo Totto la corrente a casa Non lo so Sì Ha staccato Ha fatto saltare Tutta la centrale elettrica No ma se la T E gente che se la T Le abbia Cioè praticamente Sono Adesso non dico altro Ma diciamo che Possiamo dire che Rob È Una mia Una mia creatura Alla fine Esatto E quindi E lo sapete che io Non sono molto bravo A modellare La creta Per creare creature Quindi Chiaramente però Come tutte le mie creature Mi si rivoltano Contro Nella tomba No Come le classi Mi mordono Il seno Come l'aspide Topacchi Hai problemi Con la parola seno? Scusate Col tubo In particolare Esatto Col mio No il mio È un buon seno Un buon seno Così Sì Anche E quindi Adesso però Se la tirano Ho capito Que lui Anche il conigliastro Di tanto sparisce Non mi cagli E tra l'altro Il conigliastro Ha fatto anche Ah vabbè Sì Conigliastro Ovviamente No ma Ha iniziato Un nuovo podcast Sì L'avevo già sentito Io in anteprima Ah sì E come si chiama? Conigliastro Si chiama Aspetta Che l'ho sentito Un mese fa Adesso non mi ricordo Aspetta Cine Disgusted Cine Miniax Cine Cine Blogger Sono lui E Massimo Quanti giga Esatto Rob dice Purtroppo Nel contratto Che mi ha fatto NG Plus Hanno specificato Che non posso Partecipare A free playing Solo a free playing Se non era per me Ancora Stavi ascoltando A radio dj Rob Tra l'altro Rob Io ti chiedo O magari ci sentirà Perché io C'ho questa domanda Per Andrea 7x Però La volevo fare Di persona Però Hai avuto paura Però No Non mi invitano più Prima Ogni sera Ogni sera Mi arrivava la notifica Su skype Adesso invece Avranno tipo Cambiato gruppo Mi hanno escluso Mi hanno bannato Criticano Io volevo chiedere Ad Andrea 7x Ma Secondo lui Il suo se stesso Da giovane Avrebbe menato Il suo se stesso Di oggi È un'ottima domanda Perché da giovane Era tipo Super ribelle Criminale Motociclista Adesso invece Si compra La switch Si guarda Ma si nasce A incendiare Se muore Pompiere Secondo me Se Se Si incontrassero Tipo In un viaggio Nel tempo Non so Anche se poi Ogni tanto C'è Fa queste cose Che si compra La switch Poi ovviamente Brucia tutto Quindi si riprende Alla grande Di queste Sviste Diciamo E voi Avreste picchiato Il vostro Il vostro Se stesso Da vecchio No io Il contrario Avrei picchiato Il mio senso Da ciò Ma si Anch'io Avrei picchiato Un paio Di decisioni Un po' Così Penso Che No ecco Io No ecco Vedi Io picchiato No Però Anche perché Ricordiamo che Eri l'uomo più forte Della Sardegna Eh no ma Sarebbe stata La lotta Dei diecimila anni Dei cavalli dello zodiaco Che hanno la stessa forza E quindi combattono All'infinito Capito A me sarebbe stato Più come In viaggio con papà Il film con Alberto Bellissimo Io avrei fatto Il mio stesso Da giovane Sarebbe stato Carlo Verduone Quello che dice No io ancora L'accordo con me stesso Sul fatto di Se in futuro Ho accesso A una macchina Dal tempo Tornare indietro nel tempo E dirmi Cosa devo fare Però non è ancora successo Io l'unica cosa che E quindi vuol dire che Scusa Scusa No e quindi C'è una serie Di variabili Che Che non Insomma Per la quale Io non ho ancora Incontrato me stesso E poi sto pensando A cosa potrebbe essere Successo In futuro La più banale È Non c'è la macchina Dal tempo È diventato più complicato Della trama di Death Stranding Ah e io Allora no E poi io In teoria Non sono Il figlio di me stesso Se non ho capito male Almeno Se non hai capito male Io mi manderei Solamente un messaggio Compra Bitcoin Però Anche io L'ho pensato Allora tipo Compra Bitcoin E vendili Comprane tipo 200.000 E vendili Entro il Quindi E poi ci compravamo Le pepe Le carte Pepe Mint Quelle cose lì Quelle di Donald Trump Madonna No ma quelle ormai Sono già smerdate Quelle secondo me Varranno Questo non è un consiglio Finanziario Secondo me Se c'è una carta Che potrebbe valere No bugia Varranno un cazzo Quali Quelli di Donald Trump Ah Hai visto Che ha fatto le carte Collezionabili Vabbè Metti caso Che un giorno salva Il futuro Allora diventano Eh ma appunto Ma io aspetto Che Stefano Venga al futuro A dirmi Sono lo Stefano Del futuro Non fare queste cose Fa invece Queste altre cose Ma Purtroppo Per fortuna Non è ancora successo Esiste anche La possibilità Che invece Lo Stefano del futuro Abbia detto Hai fatto esattamente Quello Che dovevi fare Correttamente Quindi non c'è bisogno Che io torni indietro Wow Fiordo dice Perché dagli sbagli Si imparano Prima bisogna sbagliare Quindi Il fiordo di prima Ha fatto cazzate Momento Rick Dufer No Non stiamo cagando In un bosco Adesso Eh sì L'hai visto tu Lo sticker Ah no Poi passa Sul retrocas Che Che ti faccio vedere Che ti faccio vedere Che ci pensa lui Esatto Che ci penso E chiudiamo la porta Dietro Eh lo sa Lo sa Coso Come ti chiama Lo sa Ludo Che siamo persone violente Come ti chiami Coso Che lo sa Coso Allora Ma ti sento lontanissimo Ludo ti sento lontanissimo Senti lontanissimo E no Con il microfono Lontano E si è messo nel cuffio Perciò Sono messo Ok a posto Ma l'episodio è già iniziato Scusate No no Questa è la parte esclusiva Per i nostri padri Per i nostri youtube E per i nostri pitch Cioè Gli unici sfigati Che si beccano Non si beccano A questa parte Su quella Su quelli che ci seguono Da anni Fedelmente Sul feed Esatto Infatti Sono solo quelli Però ovviamente Pagando Non ho giocato I morality Non ho giocato I morality Perché mi sbomballe Il cervello E quindi Adesso forse Sono quasi pronto A fare Ma tu Cioè Devi dire lì Che E fa E poi E apposta Allora Una serie di cose Che avevo in coda Perché non riuscivo a farle Era No Rewatch di Evangelion Quello Sì ma guardati Guardati come Annuale Annuale di Evangelion Sì guardati come Guardati come Ideon Che L'Evangelion 0.1 Da cui ha copiato Tutto Ah Che dice che c'è le spalle Eh C'è le spalle Guardami le spalle E la camera A parte Sì sì No bugia Mi sono già Rotti con gli uomini Cioè però Dai magari Mi ho viste Tipo 7-8 puntate Però è una di quelle serie Giapponesi vecchie Che sono 300 puntate Quindi Autocon Ok No bugia Saranno 24 30 40 Massimo 50 puntate Ah beh Invece sono entrato Sono entrato nel tunnel Di Fauda Ah Sei stato Concupito Da Andrea Qui ne parlo Ma è veramente Poliziotti Sbirri Israeliani Israeliani Poliziotti Sbirri Ebrei Tutto Come scende Dalla lingua Poliziotti Sì 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 Eh vabbè Quello Cioè ambientato In Israele Sono ebrei Allora O dire che sei ebreo È un'offesa No no Eh 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 Attenzione Perché qui Un attimo Parking Creation Perché non me l'avete mai consigliato Perché È ok Ma non è una roba L'abbiamo consigliato Un sacco di voto Alessio L'ha consigliato Per 50 puntati Di seguito C'è stato un periodo Alessio Che stai a scena Ah sto vedendo Le puntate Attivo Sì è vero Sto preparando Poi ho il rewatch Di True True Detective 1 True Story Maybe True Crime E poi devo finire Di vedere il film Di Cipacop Quello nuovo Perché ero talmente Malpreso Esatto Che No ma ero talmente Malpreso Che non sono riuscito A finirlo di vedere Cioè Quello è il mio boss finale Il film di Cipacop Ma a me era piaciuto No no ma infatti No ma non è che era brutto Stavo male io Preferisci Cip o Cipacop? In quel film Sono Hanno una personalità Molto Separata Molto Divisa E divisiva E quindi Mi piaceva Come si chiama Chi dei due Era rimasto a fare Voleva rimettere insieme Il duo Una bella domanda Non mi ricordo Chi si era Cip o Raccia O quello lì Comunque Mi piaceva molto Lo scogliato Il chipmunk Raul Bova Raul Bova Esatto Ok E Fabino Raul Bova Va bene dai Iniziamo Perché non mi hai consigliato Seinfeld Consigliato Cioè io Io È impossibile Che non te l'abbia mai consigliato No esatto Allora Se mai sentito Un episodio di Freepink O abbiamo mai interagito È impossibile Perché io rompo i coglioni Alle genti Quindi Non è possibile Allora lo consiglio di nuovo Se non l'avete visto Guardatelo Dovete guardare E poi finito Sempre guardate Carbio Dopo che avete finito Stupendo Eh sì E anche Anche Coso Come si chiama quello con Danny De Vito Always Sun in Philadelphia Ah Always Sun in Philadelphia È un altro capolavoro Ah quello Non l'ho mai visto No È mai arrivato Bellissimo È stupendo quello Guarda io Non è mai arrivato quello in Italia o no? Credo di sì Qualche roba Forse Forse sarà arrivato Qualche prima stagione Ma È sempre il cielo a Philadelphia Noi diamo Sì no ma guarda Allora se lo guardi Doppiato in italiano Io vengo A Bologna Sì ma questo me lo dici Per ogni film Sì sì infatti Infatti io continuo a dirlo Ma scusa Ludo è doppiatore Deve vedere Deve rubare il mestiere Ma a me Non me ne frega niente A farlo fino No ti dirò Ultimamente nelle serie tv che guardo Senti che vuoi ci ho impostato Nelle serie tv che guardo Io Io a casa mia No devo dire che nelle serie tv che guardo Soprattutto su Amazon E su Netflix Molto spesso fanno dei lavori Terribili Tipo in In Star Trek Lower Deck Chiamo un merdo sui colleghi Sì 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 Di lui Sì 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 In Star Trek Lower Deck Si sono dimenticati Di doppiare tre personaggi Almeno quattro volte Cioè Cioè arriva Arriva lui Che è arrivato Rob Attenzione 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 Oh in chat stanno aprendo per il culo Dicendo Non avete mai consigliato Evangelion Non avete mai consigliato Carbiore di entusiasmo Aspetta Rob Che ti Non avete poco a prendere per il culo E so dove vivete tutti Quindi Se poi Vi trovate col coltello Che vi appunto Qualche parte del corpo Non lamentatevi dopo Io ve lo dico adesso Comunque Aspetta Rob Che ti do il permesso Per parlare Ogni volta Per fare questa cosa Prima cosa stai vi dicendo Di viaggiare nel tempo Ah dei bitcoin Eh sì Compra bitcoin Sì sì Ragazzi Se vi appare il vostro Cioè se potete tornare indietro nel tempo Diteglielo Poi buttano Eh poggi bonzi è grande Sì sì Il cazzo Ti piace essere Poggi bonzi è grande Contro il mio salotto Poggi bonzi Popopo Allora Poggi bonzi Popopo Ecco qua Chi è che sta a poggi bonzi È un posto Ah chi è che sta a poggi bonzi Fiordo Ah ok In Italia è arrivato Fiordo di Poggi bonzi Sì Mancano le ultime due stagioni Non lo sapevo Eh Non me lo ricordavo anche io Però è di lì Cioè mi ricordavo che era Toscano Brothers Io ci vengo appena possibile Ad Augusta Taurino Rob ci sei? Sì Ciao Ciao Rob Benvenuto Ciao Grazie mille Ah senti Ludo la tua avventura Sui flancheri Finisce qui Terzo Ho ancora il segno del morso sul seno Del Che mi avete lasciato voi Eh beh Voi Una delle serpi Capito No ma tu sei solo Cioè Solo ispirazione per noi Vedi un altro che ho prenduto per il culo Hai visto Non solo in chat Mi sta prendendo per il culo adesso È il friendly band frame Stasera devo parlare tutto L'inglese Per il culo Perché Ludo è doppiatore Quindi dobbiamo compensare Perché lui Disinsegna la lingua inglese alle persone Va bene Iniziamo Vai 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 Tre Due Uno E Cari amiche E cari amici Bentornati 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 A Free Plank Podcast Che è che si è ripetato Di video giro di intorni Io sono Bruno Ciao Bruno Ciao ragazzi A me A me ci sono Backsoft Ciao Backsoft Direttamente da Chiacchiere e videogiochi Ciao 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 Matteo E Fabio di Felice Direttamente da The Shedders Ciao Ciao Fabio Stefano Di Retro Outcast Un saluto Una nuova idea Una nuova idea Non c'è Finalmente un podcast Che Ci vuole la provo Grande Stefano Ci vuole la provo Eh lo so ragazzi Adesso Io Che cazzo di devono Che ci hai avuto Stefano Eh Porca miseria Mi do le pacche sulle spalle Da soldi Eh sì sì Eh le pacche sul pacco Sì sì esatto E noi Ciao 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 Stefano E poi c'è Magdalena Magdalena E inoltre Ci abbiamo con noi anche Vabbè lo posso dire io Ogni tanto Devi dire solo tu Lo posso dire io No lo posso dire solo Io Corrado Guzzanti Possiamo dirlo E forse è Fabio Guarda Fabio Concesso Perché Concesso ci sarai Concesso Inoltre Con noi Ci è tornato a trovare Il mitico Ludo Thorne Ciao Ludo Thorne Ciao 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 Ludo Gettente da Ruvido Cast Che è il grande fumettista Ludo Ricordiamo il fumetto Ruvido Esatto esatto Anzi tra l'altro Adesso c'è C'è la promo Sul sito Se volete Ancora dura Che Cioè ci sono A 10 euro Il primo e il secondo numero Senza costi di spedition Quindi Allora Io Me l'ho fotografato O io Non ti do Un soldo Allora Se vieni Se viene Se viene Nel show Ci sono No io a Bologna Ci vado solo Per farmi brillare Per far brillare La città Con me Come La gente ti vede Ah ok Ok Che dice Eh quello è morto Eh leggeva Ruvido Sai com'è Doom Quelle cose lì Eh leggeva Questi fumetti violenti Esatto Non puoi spedirmi Una coppia Qua in Svizzera Te la pago Ti do dei soldi Dell'Europa In cambio Mi costa 20 euro Spedirti la roba Alla Svizzera Cioè faccio prima Eh sì In effetti Vabbè Il costo di una tratta Lo puoi portare Con la valigetta Sì infatti Te lo porto I soldi Esatto Guarda Questo per Stefano Questi sono Per il mio conto in banca Te lo porto All'UBS Lugano Sì E inoltre Credo che sia la prima volta Che è su Free Playing Mitko Rob Di Energy Plus Italia Ciao Rob Ciao Primissima Confermo Primissima Attenzione Grazie per l'invito Io passavo semplicemente di qua Grazie per l'invito Grazie a te Figurati Stasera Ci dovrai fare il riassunto Delle ultime 34 stagioni Di Walking Dead E anche Delle ultime 34 episodi Di Energy Plus Un'altra No quali te li devi ascoltare Ma io No ma non me ne mancano tanti Eh Quasi Quasi fatto Ci devi far avere Tutti i commenti No Perché purtroppo Purtroppo Poco prima di Di iniziare quel progetto Anzi durante Ho perso il senno E quindi alla fine È saltato tutto Purtroppo Mi dispiace Un grande peccato Eh lo so se riesco Poi Eh ma si dice il peccato Ma non il peccato Il peccatone Il peccastefano Esatto Il peccanone Il stefanone La Bologna si vale solo Presidente svastiche in centro Ma perché solo a Bologna Dico io Cioè Possiamo farle Lobby del nazismo Le quattordi svarone Alla fine è un hobby Come un altro No Sì sì Addirittura Fiordo dice Che voce vellutata Di Rob Rob C'è una voce vellutata Ti stanno dicendo Ti senti Non so Non so perché io Sempre due minuti Prima di andare live Mi va giù la voce Cioè non Poi magari La riprendo man mano Ma Non so perché Sta cosa Mi capita sempre Vedi Ludo Tu che fai il doppiatore Non ha detto niente Invece lui Che senza Anzi sta pure mare Con la voce Dicono che c'è la voce vellutata Non ti senti un po' invidioso? No Oramai Ci sono abituato Stasera vi dobbiamo far lottare Nella gabbia Non capito niente Ti senti un po' Incazzati un po' Dì Rob Che ti credo? Dai oh Cazzo Posso dire il parolaccio Eh sì cazzo Porca puttata Eh cazzo o merda Dai Allora Allora ragazzi Prima puntata del 2023 Questo 2023 Comincia La grandissima A livello di news Non c'era niente Però Visto che Sui siti di news Ovvero su multiplayer C'erano molti articoli Eh Che questo gioco arriverà Questo giorno Quest'altro gioco arriverà Quest'altro giorno Quindi ho pensato Facciamo un po' di Scusate Un po' di Così Che cosa Perché noi In Free Plank Di solito parliamo Dell'attualità Del presente Oppure del passato Ma non parliamo mai Del futuro Non parliamo mai Di quello che ci attende I nostri sogni Delle nostre Desiderata Di come ci vediamo Tra cinque anni Tra dieci anni Quindi ho pensato Per una volta Che tra l'altro Ho sentito anche Una frase Che diceva tipo Il passato Non esiste Esiste solo Il futuro Quindi Facciamone tesoro E niente Vediamo un po' Che cosa Alan Wake 2 Fabio Che ne dici Tu che sei il fan Numero uno Di quel gioco Che sei Alan Wake Che non vedo l'ora che esca Ma non si sa nulla Quindi Ho visto che Sam Lake Ho visto che ha fatto Il tweet Goliardi Come ho scritto Forse l'immagine qua sotto Potrà darvi Un qualche suggerimento Il prossimo anno C'è scritto Gigantesco Alan Wake Però insomma Come tu le immagini Come lo vorresti anche Come il primo Con la torcetta Le fili Una bella domanda Una bella domanda Perché il primo poi È stato un progetto Un po' Travagliato Molto travagliato È nato come open world Poi è stato ritoccato Poi È cambiato nuovamente Credo che sia Tra l'altro Uno dei progetti Più personali Di Sam Lake Ascoltavo l'episodio Di storia di videogames Che ne parla E Beh è un bel podcast Molto bello E praticamente Insomma Quanto pare L'idea Del clicker Del Dell'interruttore Che alla fine Diventa il Deus Ex Machina Del primo Alan Wake Sam Lake Ce l'ha da È un ricordo D'infanzia Quindi l'ha sempre Voluto mettere Cioè l'interruttore Che diventa Io non ho mai finito Alan Wake Quindi Beh ma è passato Un po' di tempo Però c'è questo oggetto Nel gioco Si chiama clicker Che è praticamente L'interruttore Che non mi ricordo Come era legato Alla storia E alla figura Dello simbolo Mi cercherai Il padre di Alan Una cosa del genere Era una torcia No no Era Ve la ricordate tutti Bellissima questa storia La torcia Era il padre Staccato da un filo Si era un interruttore Ah è vero Poi Ma potremmo dare A Stefano Si Ti ricorda Scusa Quindi il padre Di Alan Wake Era la torcia Era un filo La torcia umana Ok Vabbè comunque Aveva un ruolo importante Nella storia Ed è una storia Della sua infanzia Cioè Ha voluto mettere dentro Poi dopo l'ha messo Dentro pure a control In questo tentativo Che fa un universo Narrativo Diciamo unico Segno di uscito Non lo so Secondo me è passato Tanto tempo No Non si è visto un cazzo Di Alan Wake Dove per ora Un trailer Ma c'è quest'anno Computer Graphic Service Ma uscirà veramente Quest'anno No Paglialmente Va bene Io lo aspetto sempre Anche se dovrei finire il pitch Ho provato anche Sullo Steam Deck A giocarci Però Niente Dopo un po' In realtà Sullo Steam Deck Pensi che non si ha più Tempo di Alan Wake Io ci ho giocato su 360 E andava benissimo Su 360 Però sono passati No Andava benissimo Nel senso Come periodo Per giocare Alan Wake Adesso sono passati Tipo 10 anni 11 anni Magari non è più Certo Ma il problema Di Alan Wake È che c'era due nemici in croce Però dicevano cose divertenti Dicevano tipo La pesca E lo sport E lo sport Come hai detto Dicevano tutte quelle cose lì Lo sport completo Lo sport completo Lo sport completo La scrittura La storia era fantastica Sì Ancora oggi Cioè voglio dire God of Ragnarok Non è che c'è Un'esplorazione così Diversa È un corridoio Dove puoi andare Da una parte E dall'altra Quindi No ma Fabio Il problema di Alan Wake È che c'era Quei nemici Che erano tutti uguali Dai Sì sì Un po' sì Però vabbè La cosa più originale È il trattore Dura pure 8 ore 7 ore Voglio dire Non è che Lo giochi 80 ore E dici Non ce la faccio più Tu mi puoi mandare giù Quei nemici In favore È una storia Che era eccezionale Le trovate Di gameplay Che erano fantastici C'era quel capitolo In cui ti convinceva Che tu eri pazzo E avevi ucciso tua moglie Che era fichissimo E secondo me Anche di DLC erano carini Anche di DLC Vabbè Come si chiamava Hollywood Night No 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 American Night American Night Oh ecco Era un gioco Quello Non era proprio un DLC Sì infatti È un gioco appare Eh sì Perché mi ricordo Che avevo giocato Anche di DLC erano The Signal E il secondo Mi sembra che si chiamava Proprio The Writers Te l'ho scritto Non li ho giocati Molto belli Molto belli Però pure lì Ti lasciava Cioè Facciamo uno spoiler Che mi sono passato I dieci anni E il secondo DLC Ti lasciava con lui Che diceva Sto tornando Ah che sticata Non giochiamo al 2 Quel cazzo Proprio Mi sono passato I dieci anni E quindi Niente Aspettiamo Aspettiamo Ludo o Rob Voi l'avete giocato Alan Wake C'erate speranze No io l'ho saltato Proprio Alan Wake Anch'io Non l'ho proprio giocato Male 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 Quindi siete Team Bruno Tutti e due Esatto Va bene Poi Vediamo un po' Resentivo Dragon's Dogma 2 Si fa interessante Hanno detto Gli stessi sviluppatori Lo sviluppatore Ha detto Mi so che dicessero Questo gioco che stiamo facendo Fa schifo Non compratelo Esatto Cioè Ed è al macellaio Se la carne è buona Cioè Ha mandato Questo tweet Il director di Dragon's Dogma 2 Ideaki Itsuno Che poi l'ho già sentito Che altro Davide McGraw 5 Ah beh Felice anno nuovo Lo sviluppo di Dragon's Dogma 2 Sta procedendo bene Sta diventando un gioco interessante Rimanete sintonizzati Per altre novità in arrivo Si legge nel tweet Di Itsuno Accompagnato al logo del gioco E da una foto dello sviluppatore Che qua non si vede Perché giustamente Twitter Vabbè Però avete giocato Dragon's Dogma 1 E' piaciuto Bellissimo Bellissimo 360 anche qua Anch'io E poi ce l'ho su Switch Però ho detto Adesso lo rigioco E poi non l'ho rigiocato Comprato Ma è finito Comprato? Tre volte Switch 360 PC Ah ma tu Vabbè E' vero che tu c'hai problemi Hai comprato due volte 360 e poi No no Switch 360 Però è divertente Che l'ha comprato tre volte Sulla stessa piattaforma Vabbè Magari Con account diversi Che ne sa Come è set ex Vedi Esatto Stavo per dirlo Eh vedi Non mi sa che l'ho comprato due volte E non l'ho mai finito I know my chicken Io non lo so se ce l'ho Forse si Però Non l'ho mai giocato Tra l'altro il gioco preferito Di Slavex Ricordiamo Anche a Carmelino Anche a Carmelo Non a Vermintide Quello di Slavex No E No A Dragon's Talk Cioè almeno Io l'ho riposto che a Dragon's Talk Ma magari pure Ma io so proprio Invece non ce l'ho Dragon's Talk C'ho Dragon's Crown invece Però con le vetture Bello Un po' diverso Sì sì Con quegli artwork Un po' amiccanti Di Eh ma giusto Un po' sì Una cosa Appena accennata Io comunque preferisco L'Amazzone Perché mi ispirano Di più quelle Ah un po' più Eh sì Quello è Sì 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 La donna forte Lo sapete Noi siamo Sì 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 Eh esatto Va bene Va bene Quindi Dragon's Dog Ma Ok Poi qua ce n'è un altro Un secondo che faccio Sto facendo La scaletta Che è complicatissima C'è troppa roba Ho messo evidentemente Le esclusive Xbox In uscita nel 2023 Oltre Vediamo un po' Una lista vuota Esatto Xbox 360 Tra l'altro No c'è Starfield Semplicemente Uno dei giochi Più attesi In assoluto Voi lo state aspettando? No Mi sto grattando la faccia No io sono Sono contento Per Starfield Posso dirlo So che siete No no Ma puoi essere Ma anche io sono contento Però cioè Finito lì Non posso esserlo Se nasce un uccellino No allora Loro Loro sono molto bravi Loro sono Molto scarsi Da una parte Ma sono molto bravi Dall'altra E Perché anche Skyrim Se lo guardi Sembra un gioco Incredibilmente Mediocre Incredibilmente Mediocre Però c'è l'ambientazione Le musiche A parte le musiche Sono fatte da Non mi ricordo come si chiama Però bravissimo Eh? Chiaro Chiaro Magari Bravissimo No però riescono Sono bravi a fare Le Diciamo Le ambientazioni Quelle cose lì Quindi comunque C'è sempre qualcosa Di interessante E ti dice Ah vabbè però Anche se il gioco Non è chissà che Comunque lo voglio giocare Quindi alla fine Anche se magari È qualcosa di Mediocre Te lo giochi lo stesso Perché anche dai trailer Di Di Starfield Dicevi ok Sì è fallout Nello spazio Però Per me Che sono un super patito Dei giochi spaziali Ho detto Sì cazzo È fallout Nello spazio Quindi Giochi spaziali Tipo Elite Dangerous No Man's Sky Sì tipo Elite Dangerous No Man's Sky Beh questo Io ho detto Io Dini un altro Quelli ci sono Che vuoi Posso copiare Il tuo compito Scusa Space Quest No Space Quest No Allora Che c'è Gioco che si chiama Spazio Quest Sì ma I giochi Sierra Erano antipatici Solo per essere Antipatici Vabbè è facile essere Farsi piacere i giochi belli Se ti piace un genere Invece ti piacciono anche Quelli brutti Io non piacere con i brutti No no Beh sì Una star Fox Va bene Comunque Bethesda È uscita anche Un'altra news Che hanno organizzato Hanno creato Il primo sindacato Diciamo A livello di società Spaziale E anche Favorito da Microsoft Che adesso Bethesda Fa parte di Microsoft Quindi Ma scusa ma Stalizzate Esclusive Microsoft Era solo Starfield No no Aspetta Per metterci dentro Anche sta cosa Sì E tra l'altro Secondo voi Uscirà Fallout 3.65 Come Office No è 3.60 No 3.65 Dopo il 76 Redfall Non c'è il juffle Fallout 3.65 Vabbè C'è quello di online Scusa Quello è il 76 Per uniformare con Office Ah e cambieranno nome a questo Che non si chiama Che non si chiama Che non si chiama Che non si chiama Fall out Vabbè Si chiama Solo Microsoft 365 Hanno droppato il nome Office Dopo 30 anni So Roby C'è una preparazione Che veramente Non c'è Adesso capisco Perché su NG Plus Non ti vogliono mandare qui Per non Non far abbassare il tuo valore Non farti mischia Vabbè Redfall Che è sto Redfall? È quello di Arkane Arkane Ah sono quelli di Sonora Con i vampiri Con i vampironi Si È un multiplayer online 4 giocatori Continua 4 giocatori Con i vampiri? Da quello che si è capito Si Si Non è Non è come Let 4 Dead Però È più come se Da quello che hanno detto loro Poi bisogna vedere Se effettivamente è vero Beh I vampiri al posto degli zombie No È più un Dishonored In multiplayer Più che Più che un Let 4 Dead Però Boh Chissà cosa vuol dire Eh cazzo Però Dishonored Con tutti quei superpoteri Multiplayer Chissà Eh si Può incasinare Però si Boh È che da come l'hanno presentato Si Sembrava Let 4 Dead L'ho pensato anch'io Poi però Non hanno detto No ragazzi No vi prego Non è Non è Let 4 Dead Così hanno detto Quando la comunicazione È molto importante Ad alcuni sfugge Purtroppo Un po' come Come quando uscì Battleborn Che disse No non è Overworld Va bene Poi altra esclusiva Forza Motorsport Grande Lotto Voi avete giocato Qualche Forza Io manco uno Dai tempi della 360 Horizon E forse uno Sul Game Pass Bravissimo Sì Rob Tu che sei Preparatissimo Eh no Sui giochi di guida No Cioè Solo Mario Kart E basta Abbiamo colto Infatti Gioco di guida No io ho provato Ho provato Ho provato Forza Horizon 5 Che ho notato Che poi Ho scoperto Che lo fanno Praticamente Quasi tutti i giochi Di corsa Adesso Praticamente Ti prendono Ti prendono Per un deficiente Perché Qualsiasi risultato Fai Tipo arrivi ultimo Con 20 minuti Di stacco Il gioco Ti continua A dirti Sì bravo Sei stato bravissimo Sei il migliore Sì Vogliamo te Per fare questa gara Ma io sono arrivato Ultimo Ho fatto schifo No vieni Vieni Sei il migliore E c'è sempre questa cosa Perché se tu provi A perdere la prima gara Lui comunque Dice che sei bravissimo Però insomma Dovrebbe dirti In mazza Oh Sei una merda Allenati di più No Fai qualcosa Quindi hanno questa cosa Perché i giocatori Quanto pare I giocatori di corsa Noi giocatori Già siamo sfigati Se pure i videogiochi Ci devono Ci devono Prendere per il culo No vabbè Ma mi sembra Mi prendi per il culo Se mi dici Che sono bravissimo Io sono contento Che mi dici Che sto gioco So guidare bene Scusa Rob Ma che secondo me Questa cosa È un po' dappertutto Non è solo Però qui Forse è un discorso Un po' ampio Cioè Ti devono far sentire Poi li capisco Perché è il giocatore Che molla subito È come se Non so se ti ricordi I tempi di Unreal Tour Ma comunque Giochi dalla curva Di apprendimento Molto Molto elevata C'era una curva C'era un triangolo Perché non avevano I DLC da venderti I costumini E queste cose qua Altrimenti Conosco tantissima gente Che ha provato Ha perso tre partite di fire E dice No non è per me Ma è intrinseco nel gioco Il fatto che Che è difficile E ti ci devi mettere Quindi Però Ci sono altri giochi Che lo fanno Cioè fanno questa cosa Del dirti che sei bravo Però lo fanno Menos facciatamente Nascosto Cioè Fortnite Ti butta in partite Dove È probabile Che tu possa vincere O comunque arrivare Abbastanza in alto Perché ti mette Con gente scarsa O gente con Con l'online È come di incontri Truccati Di Rogue E3 Ti mettono là E tu non te ne rendi conto Senti Ludo C'è Lancia Storto Che dice Che sei poco inclusivo Con chi è scarso Eh Assolutamente sì Bisogna smettere Di premiare Le persone scarse Ma magari C'è La via di mezzo No Ci sono Lo stesso Call of Duty Anche quando arrivi ultimo Comunque ti dà un po' Di esperienze Un po' di cose Quindi qualcosina La recimo di sempre Non ti senti Ma non ti incentiva A fare meglio Ti incentiva A essere mediocre Insomma Ok Ti incentiva a fare meglio Che comunque Ti dà un premietto E tu continui Ad andare avanti Magari Se sei più bravo Vai più veloce Ma se sei meno bravo Comunque Vedi che stai facendo Una progressione Sì no Vabbè adesso Non è che Devo notarti Mazzate per forza Però Non è anche Da farti sentire Uno scemo Perché In ogni caso Anche se fai schifo Proprio schifo Schifo Ti danno Ti danno comunque Quello che vuoi Non lo so Secondo me Io lo vedo molto Lo vedo più denigrante Così Che altro C'è scasi C'è scasi Era bello Il ranking Di Halo 3 Che ti faceva Scendere di grado Se perdevi troppo Poi in realtà Anche nei picchiaduro Funziona così Parti da Bronzo Poi argento Oro Platino E via dicendo Almeno in tema Anche in Street Fighter Ci sono E puoi anche Puoi anche perdere Scendere di grado Quindi Chissà Chissà Voglio dire Sei anche Più motivato Così Se il gioco Ti piace Non è eccessivamente Difficile Come appunto Gli shooter arena Sei anche Motivato A voler fare Di meglio Dovrebbe Devo dire Che mi è convinto Va bene Stalker 2 Art of Cernobyl L'hanno scritto Però è Cernobyl Immagino No è Cernobyl Adesso E lei è rimandato A tempo Indefinito Eh sì Tra l'altro È anche Apparsa Ultimamente Il tweet Che era morto Uno degli In realtà Un ex sviluppatore Di Del team Di sviluppo Era morto Proprio sul front Quindi La situazione Un po' Ma L'hanno scritto Dappertutto Art of Non era un Refuso No Cernobyl È il dialetto Il dialetto Proprio Il dialetto La versione Ucraina Di Cernobyl Ah Pensavo Beh Perché han deciso Di distaccarsi Di staccarsi Anche per ste cose Dalla Russia Non sono proprio Simpatici Hai visto Quante notizie Interessanti Ha studiato Il ragazzo Non per niente Una creatura di Stefano Quindi No lui Lui no Devo dire Ah no Era presente In natura No no Lui era già presente In natura È una creatura Di Non lo so Di suoi genitori Credo Adesso Voi avete giocato Il primo stalker Io pure questo Mi manca Io non c'ho Un caldo Com'era Bello Bellissimo Quando è uscito Veramente Super atmosfera Molto survival Bello Era quello che dovevi Girare con la maschera Antigas Sì Sì Non ho giocato Le espansioni Che le sono uscite 2000 Pure là Però Un gioco in base Era fighissimo E' anche uscito Un bel po' di tempo fa Mi sa Eh sì Sì 2006 Forse Forse pure prima Stalker Vediamo Adesso ci guardo Stalker Molestratice Molestratore Forse meglio Perché il videogioco Eh vedi Quello perché ti dai Risultati personalizzati Bro Rimettere i puntini 2007 2007 No Un pochino di tempo fa E' il gioco E' il gioco dell'anno 2023 E' Replaced Quello in pixel art Facciamo spazio Anche a un gioco indie Perché Replaced Rappresenta davvero Uno dei titoli Che andrebbero Tenuti d'occhio Nel 2023 Ma Replaced Uscirà veramente O è come quell'altro Ma questo Non so se vi ricordate Ma anni fa Mi avevano fatto Sì Last Night Eh Last Night Scomparso completamente Si sa più niente A Orti Probabilmente Ma l'esclusiva? Temporale No A quanto pare Sì A quanto pare È esclusiva loro Perché tanto Non è C'è anche Arc 2 Che io pensavo Che fosse già uscito Quello con Vin Diesel Mamma mia Vincenzo Casolio Vin Diesel L'uomo delle caverne E quindi Vin Diesel Il primo Arc Ma come ricordo Forse ci hai giocato Tu Il primo Arc? Eh Ah sì Ma ci ho giocato Poche ore Devo dire Sembrava interessante Però era Boh Non l'ho trovato Legnoso E Un po' Incazzinato E alla fine Non ci ho giocato tanto Però interessante Niente di che Dice Brothers Last Night E Vaporwave Ma per che altro C'è lo sviluppatore E Vaporware No Vaporwave Anche sì Vaporware E Vaporwave E la musica Però è anche Vaporwave Dai E anche un po' Vaporwave Sì Non mi ricordo Se lo dicevano su Rincast Che lo sviluppatore Comunque su Twitter Continua A twittare A dire Che ci sta lavorando Dice Ci stiamo lavorando Però Però Dovete aspettare Perché ogni volta Lo rimaneggiano Lo rifanno E quindi Boh Aspettiamo È una saga Ha presentato Ha presentato nel 2018 Dovrà uscire Beh dai il tempo Poi quelli sono pixel Doviamo fare pixel per pixel I giochi Che fanno tutti Un al giorno Eh ma lui non le lascia lavorare Lo sai come Che vi devo dire Se giovani Vogliono tutto subito Tenuous saga Airblade 2 Questo forse Già un po' più Anzi mi sa che è l'unico Un po' più interessante A meno per me Non lo so Per voi Fabio a te Mi ha fatto Stragagare Ma questo è perché L'hai giocato Prova a guardare Su YouTube Sono Ninja Theory Cioè per me Dovrebbe Ah è vero Uno per uno E Team Ninja Theory Che t'ha fatto Ninja Theory Scusa Cosa non ha fatto Cosa non ha fatto Non dovrebbe Un gioco bello Credo che l'abbia fatto Andavano buttati da rupe Come Aspart Perché hanno fatto The Bill My Cry Emo Per quello No no Faccio fatica A trovare un gioco Quello che mi sia piaciuto Comunque a Fabio Mi è piaciuto Diciamo Ecco In conclusione Non ti è piaciuto Quello di Con Andy Serkis Com'è che si chiamava Quello L'unico che non ho giocato È Cosa Come si chiamava Devo schiavo Lì Enslaved Non l'ho giocato Enslaved Però gli altri L'ho giocato Cioè Heaven's World Era terribile Devil My Cry Brutto Senua Non mi è piaciuto No era brutto Infatti Non ho detto brutto Brutto Ho detto brutto A me è piaciuto No ma mia Però io Sì Con i Devil My Cry Sono un po' impedito Rob Tu che ne dici L'aspettiamo Senua Senua 2 La vendetta Eh L'aspettiamo Ma quanto Ma c'era un rumor Che diceva Che nel 2023 Magari a fine 2023 Però Erano impegnati A fare La tecnologia La merda Dei piccioni No? Sì Come la palla Dei cavalli Quindi Sarà slittato Anni Perché devono Vedi bene Sì La palla Dei cavalli È slittato Sulla merda Dei piccioni Sì Come Metal Gear Solid 5 Che poi era il primo gioco Vabbè Metal Gear Solid 5 E il primo gioco No no La merda Dei piccioni È il primo gioco È il primo gioco Metal Gear Solid 3 Vabbè Mi raccomando Ecco Ok The last case Of Benedict Fox Questo Sembra un'avventura grafica Dico Dici tu Fabio Sì Era quello che c'aveva Quello stile grafico Un po' Lovecraftiano Sembrava un metroidvania Alla limbo Però Con questi Elementi Da horror Perché limbo E metroidvania No Questo sembrava un metroidvania Ma Aveva qua Il tipo di visuale Da action Così a scorrimento Però questo dovrebbe avere Sì Una struttura più Un po' più ricca Ecco Rispetto Semplicemente vai avanti Ecco Quello degli animali Strani Come si chiama Maggio Kazui No Maggio Kazui Allora Mi sono sbagliato Vabbè Comunque Di questo qua Non si sa veramente Si sa che è ambientato Nel mondo di Pillar of eternity Però a parte quello Non si sa niente Infatti a me È proprio Questo tipo di Già che vedo qua Con la manina magica La spada magica Non è proprio Invece a Rob Mi sa che piace Rob Tu che ne dici Di Avoved E mi stai Mi stai piccando Proprio sui giochi Che ho seguito Poco nulla Non l'ho Quindi neanche a te Piace il fantasy Stai dicendo Ma no Sì perché no No fantasy Dai Chi non piace il fantasy A me Io appena Appena vedo una roba Di magia Maghetti Fat Non ce la posso fare Oltre il 2000 Fantasy è fantasy Quindi so già finire E vabbè Quante ne volevi Scusi Quante ne volevi Scusi Beh hanno annunciato Anche quel gioco Di Microsoft Annunciato anche Quel gioco strategico Di quanto Non si sa niente L'anno scorso Mario Rabbins No No è una specie Di Civilization L'hanno annunciato Piangente Non ricordo nemmeno Come si chiama Populus Ah qua Oltre il 2000 Oltre il 2023 Ever Wild Il gioco rare È un titolo Estremamente affascinante Ecco Si chiamava Mi sono confuso Fable Il reboot Della serie Lionhead Io non avevo giocato Manco uno Di Fable Proprio No C'è che neanche Il rumor Che è stato cancellato Internamente Era falso Era falso Sì Perfect Perfect Dark Per i giochi annunciati Ormai Da una certa quantità Di tempo C'è 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 Affidato a Day Initiative Con Crystal Dynamics Contraband Il gioco sui Contrabandieri Di Avalanche La Contraband Penso sia Il gioco Meno interessante Che abbiano Mai sviluppato Te lo dico Adesso Così Senza nemmeno Aver visto niente Perché è fatto Da Avalanche Studios Che loro sono bravissimi Nel fare il gameplay E sono bravissimi Nel rendere Qualsiasi gioco Noioso Quindi Allora non avevano fatto Anche Mad Max Sì Quanto è noioso Mad Max Stai scherzando Hanno fatto quello Mad Max Pain Hanno fatto anche Rage 2 Mad Max Miglior open world Di tutti i tempi Mad Max Pain Eh No Allora sviluppano Una meccanica di gioco Che è divertente Però poi La ripetono All'infinito Per Per una mappa Giga enormica Che Non finisci mai A noi giovani Vogliamo le robe Scusi Non mi che possiamo Giocare i giochi Che finiscono subito Abbiamo bisogno Di giochi Che non la sai Fare i video su Youtube Va beh Neanche a fare la stessa cosa All'infinito Ti diverti No? Voglio dire Comunque sto Contraband C'è un trailer Veramente un po' Critico Quindi Però si vede un vinile Quindi piacerà a testa Allora sì Allora lo compro Se ve lo vinile Lo compro State of Decay 3 Probabilmente Tra i più lontani Dell'uscita Pure State of Decay Che cazzo è Vabbè Ma è giocato Ah vedi C'è Matt H9 Dice Humankind Che era quello Che dicevo io Su Gioco Di Deus Ex Gioco strategico A turni State of Decay È una sorta Di survival Con i zombie Sì è molto figo State of Decay Anche quello Super Super hype No Perché sono scarso Con quei giochi Però È figa La meccanica Cioè La cosa figa Di State of Decay È che tu hai un gruppo Di persone E devi evitare Anche che muoiano Anche perché Non è che Rispuntano Quali altri vittori Incominci da capo Una volta che è morto È morto Quindi devi Proprio fare attenzione A gestirli Un po' come Il gioco del motociclista No Perché lì Carichi il gioco Non è che si chiama Il gioco del motociclista Che mi sono dimenticato Eh Days Gone Days Gone Days Gone State of Days Gone Sì Se vi interessa Sta a 10 euro Su Porky Shop Che è un sito Un po' Di quelli Che Insomma Eh sì sì Un po' Barri Barri Negal Come diciamo noi Beh I migliori Potremmo Eh sì Outer Worlds 2 Lo mettiamo qui Perché si tratta comunque Di un gioco annunciato E presentato con un trailer Ma non ci aspettiamo Di vedere di nuovo Outer Worlds 2 Di Obsidian Pure sta cazza di Obsidian Insomma in mezzo alle palle Vabbè Ma loro hanno più team Hanno più team Quindi riescono a fare Più giochi alla volta Perché fanno giochi Un po' più compressi Rispetto agli altri Tu hai giocato Outer Worlds Ludo No no Ancora mi manca Ma voglio giocarlo Perché comunque Sono Mi hanno detto che alla fine È molto molto simile A Fallout New Vegas Quello era Molto figo Quindi aspetto Un prezzo Per me Giusto E poi lo prenderò Ma Cristo Cioè gratis E poi è la tema spaziale Esatto Gratis su Epic È il prezzo giusto Che vuoi tu Immagino Eh? Gratis su Epic È il prezzo giusto Che vuoi tu Eh se me lo regalano Guarda Eh vedi Era sul pass comunque Se non ricordo male Sì È sul pass È sul pass Ma me lo sono ricordato adesso E mi scade il 15 gennaio Non lo finirò mai In 10 giorni Vabbè non ti puoi fare altri Cinque anni Con un euro di pasta Nei trucchi No Dovrei fare 40 account diversi No Mi tengo No Ma che Siamo tornati In Turchia Sistemiamo tutto Siamo tornati Nella legalità Quindi caro Ludo Ma poi scusi Io non capisco Ma se devo spendere 50 euro Devo spendere 50 euro Rubando Non faccio prima Scaricarlo e basta Scusa perché Devi spendere 50 euro Rubando Infatti Non è furto Ma è truffa Se fai l'account In Turchia Vabbè scusa Perché C'è qualche legge contro Beh Tecnicamente C'è la legge Non ti puoi fare L'account in Turchia Che via Il giudice No Beh Tecnicamente Non puoi farlo C'è scritto Nell'Eula Che nessuno si legge Eh L'Eula Alla fine Hanno messo di nuovo Le mani Nelle tasche Degli italiani Infatti Ludo Amico degli sbirri Quindi praticamente Esatto Anzi Adesso ci va A denunciare I tuotti Sicuro Delatore Sai che potremmo fare Ludo che va In giro Nei podcast Come cicaluone Dice Ah guardate Questi adesso Stanno facendo Questa cosa Sì Outer Wilds Dura poco La finisci Outer Wilds E quell'altro Bene Va bene Queste sono le grandi Esclusivi di Microsoft Un po' Boh Però Stori pure Non è che ci abbiamo Annunciato Niente di che Insomma Cioè Fantasy 16 Silent Hill 2 Remake Ma non sono i Sony Quelli Eh beh Però escono in esclusiva Su PlayStation 5 Nemmeno qua Sono tutte Microsoft Ma escono in esclusiva Su No Sono tutte Microsoft Quelli Abbiamo spottato Il Come si chiama Come si chiama Quello là Il pixel art Ah parte quello E nemmeno Senua è esclusiva Bowed è esclusiva Fable è esclusiva Force è esclusiva The Otherworld è esclusiva Poi vabbè Non c'è No The Otherworld Ah sì perché Byware Sì è esclusiva Prima è uscito Obsidian Obsidian Sì sì È da essere esclusiva Anche quello Vabbè Comunque Beh poi The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Arriva nel 2023 Siamo pronti Siamo carichi La domanda è Se sono pronti loro Perché secondo me Se me ne fregasse qualcosa Direi di sì Ma come È un pazzo Cioè se Non hai giocato A Breath of the Wild Il miglior Zelda Di tutti i tempi Ci ho giocato L'ho comprato L'ho pagato E Te ne stavi già scappando Dopo aver detto Mi piace sempre Che sottolinea Sta cosa Che paga i giochi Come se facesse Una cosa eccezionale No no Perché Ma sai perché lo dico Mi sono fermato Al semaforo Non ho Non ho Non ho Non ho Non ho Non ho bruciato Ho fatto Traversare il pedone Non l'ho Non l'ho Invisito Siete Esatto Siete E che voi rompete Il cazzo Su sta cosa Ogni volta Ma l'avrei piratato Adesso ve lo dico Ogni volta Non ho mai detto In tutta la mia vita Non tu Io so che Non tu Tu si Tra l'altro Guarda senti Un altro che Prende per il culo E quindi adesso Lo dico Ogni volta Ecco E ho pagato Quel gioco di merda A prezzo pieno L'ho mollato Dopo Boh Non mi è 10 ore Eh Quello Quello Per Ma Che Sì Io l'ho provato Sull'emulatore Però non sono riuscito A trovare i settaggi Buoni Anche perché c'è i tatti Invertiti Quindi mi sbagliavo Già non mi ricordo I tatti normali L'hai provato su Cemu Sì su Cemu La versione Wii U Che c'è da tutte le patch Se vai negli shader Anzi non si chiama Sì sì Lo metti in alta risoluzione No a parte quello Nei cheat C'è per cambiare La direzione dei tasti Quindi poi il gioco Ti consiglia Ti dice di premere A Ed è A Sul Sul gioco Cioè ti prendi Ma ormai Ma così diventa Ancora più complicato Perché poi Dici Ah Ma allora devo fare Quello che dice O quello che Intende È troppo complicato È tutto troppo Di Nintendo Metti i tasti al contrario Sui giochi Ma quindi questo è quello Che doveva essere All'inizio Un'espansione E poi l'hanno espanso Ancora di più No No Sì Non è mai uscito Cioè è uscito Sta voce Io non la conoscevo Sì no Han detto che doveva essere All'inizio doveva essere Un'altra espansione Ma stavano iniziando Ad allargarsi talmente tanto Che hanno deciso Di fare un altro gioco Completamente Infatti è abbastanza raro Che Nintendo Faccia Seguiti direttissimi Di Zelda Perdonami Allora Bruno Per il no 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 Figurati Io l'ho detta così Invece Ludo Ha detto così Invece era vero Ludo invece Ma perché Perché pensi Che non sia pronto Per maggio Mi sembra che esce Maggio Sono passati Sei anni L'altro L'hanno rimandato 26 volte Anche questa L'hanno già rimandato Due volte Quindi non lo so Non sono proprio Non sono affidabili Quando parlano di date Ecco Matteo Tu che ne dici Tu l'hai giocato Zelda Sì 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 Eh L'hai pagato Ecco un altro Che sta prendendo Per il culo No No Non l'ha pagato Dici che non esce No no Il programma Dici che non esce Ci vede lo spettrino La buona acquista C'ho Tagliato C'ho la C'ho la Confezione Eh vabbè La confezione Non significa Che l'hai comprata Magari Magari L'hai masterizzata La confezione Cosa ne sappiamo Noi Ha fatto la stampa 3D La stampata Sì Ha fatto la stampata 3D Già In Germania Già lo fanno Ma lo aspetti Questo Ma lo so Non l'hanno fatto vedere Un cazzo C'è una copertina C'è questa Questa è lui Che si vuole buttare Di sotto Quindi ci ha promette Bene Basta Non ce la faccio più Quindi con un po' di sfortuna È l'ultimo z Vabbè ma lui Non è che Tutti gli Zelda Resuscita Lui non è lui No Che vuol dire Lui non è lui Che vuol dire Non è mai lo stesso Link A parte in questo caso Ah sì Link è l'incarnazione Dell'eroe Esatto Link è l'incarnazione Link è l'incarnazione Eh vedi Link è l'incarnito Non è cangia Titolo episodio Link è l'incarnazione Mamma mia veramente Fammi lo segnare subito Che sono di me Con l'età Dicevi Rob scusa? No Se vi può tornare utile Io l'ho comprato L'ho pagato Ma non l'ho giocato L'hai pagato quindi L'importante è che l'hai pagato L'importante è che l'hai pagato L'ho pagato per qualcun altro magari Sì Diciamo la mia copia Me l'ha pagata Rob Quindi Siamo un po' così Funziona per procura ormai Sì sì Riequilibra mi karma Non serve di ringraziare Si vuole Ma chissà se un giorno faranno Link multiverse Con tutti i vari link Che Ora c'è Irule Warriors Ah no Ero Che è un po' così Quindi lo aspettiamo L'unghi incarnita Link incarnita Dice Matt E anche questo Non sarebbe male Senza Zelda Cosa fa uscire Nintendo quest'anno Boh Platoon 18 Cosa del genere In effetti Quest'anno 2022 Nintendo ha fatto uscire 8 giochi Te ricordi tutte 8 Così a memoria No Ha fatto uscire 2 Kirby Ha fatto uscire Splatoon Ha fatto uscire Xenoblade Xenoblade 2 Pokémon 2 Pokémon 2 Pokémon Ne mancano 2 Ne mancano 2 Paionetta 3 7 Vabbè Sì diciamo Manca l'ultimo Molto quest game Questo momento Sì esatto Super Mario Qualcosa Switch Sports Switch Sports Grandissimo L'aiuto da casa Va bene E tra l'altro Non aiutatelo Sono squalificato E potevano essere No Nintendo ha talmente Tante esclusive No Faccio uscire Questo Faccio uscire Che doveva uscire Il remake Di Cavallo Come si chiama Di Resident Evil No Mi viene No Mi viene Army of 2 Non c'entra niente Quel gioco con Aturni Aturni Advanced Wars Advanced Wars Però c'è pure Tocco nome In effetti Si possono confondere Sì È molto semplice Non faranno uscire Quest'anno Allora Doveva uscire Ad aprile Però Han detto che Con Con la guerra in Ucraina Non se la sentivano Di farlo uscire Quindi Tutta colpa di Putin Esatto Quindi han detto Mi sembra una scuna Però c'è pure Mario Stryker Che è uscito quest'anno Forse pure Mario No Mario Golf Quello prima Adesso esce Mario Stryker Riusci dove stanno Allora Adesso 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 esce Fire Emblem Nuovo Deve uscire Peckman 4 Mi sembra Ma esce quest'anno Sì Sì Tutti Hidden Nintendari Qua Pure tu sei Nintendaro Rob Che ci dici Loro più prima Cioè Ultimamente Però Li sto giocando poco Però Boh Non so perché Mi sono messo a collezionare Giochi della Della Wii Della Wii U Per un motivo Non preciso Cos'è la Wii U Eh Non È un nome strano È il Wii Il Wii Quindi stai facendo La super collezione Proprio di tutti i giochi originali Con Pagati Pagati Eh infatti Pagati Pagati non rubati O nuovi O usati Non so perché Quando li trovo in giro Li compro Li aggiungo sullo scaffale Ma li Li sto giocando Pochissimo Praticamente Li giochiamo Devo 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 recuperare Quella Quella cosa Di nuovi Videogiocatori Invece Qua c'è anche la notizia Nuovo Nintendo Direct In arrivo Con Metroid Prime Attenzione Che c'è stato Un famoso Licker Che Un nuovo Licker Di Nintendo Quindi Lavora poco Per Nintendo Ha anticipato L'arrivo Di un possibile Nintendo Direct Forse con l'annuncio Di Metroid Prime 4 O della Metroid Prime Trilogy Sono tre anni Che deve uscire Questa Trilogy Eh però Questo Il Licker Si chiama Fanway 6592 Ah allora si Eh vabbè Allora Aveva già svelato Il Direct Con Legend of Zelda Scaval Sword WarioWare Esplatoon 3 Nonché quello In cui è stato svelato Il titolo finale Di Legend of Zelda Tears of Kingdom Sai che è uscito Pure WarioWare Quest'anno No è uscito L'anno scorso Si è uscito L'anno scorso Ok Cioè L'anno scorso 2021 Sì sì E lui praticamente Ha scritto Su un subreddit Che si chiama Gaming Leaks And Rumors Ha scritto Do you think Everyone is Primed And ready Primed Quindi Ha fatto occhiolino A chi ne capisce E Quindi forse Uscirà Un Direct Con Metroid Sì sì Ma domani 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 E se non esce domani Ridirlo domani E sarebbe comunque Perché la La trilogy È anche uno dei giochi Più introvabili Per Wii Sì Sì Io ce l'ho Te la vendo Beh ma adesso Se esci per Switch Ormai Ormai C'è la Perde di Lavoro Perde di valore Eh mi devi fare Un grosso sconto Perché ormai Con leak 10 euro 10 euro E ci sono Di pensiero Ma facciamo Il 50% 50% Di 10 euro Vabbè E A parte questo Invece stanotte Ci sarà La La diretta Di playstation Dal chess 2023 Dove forse Anzi no Forse Molto sicuramente Verrà presentata Playstation VR 2 Fabio ce l'avevi Il VR 1 VR 2 Sì Il primo VR 2 è difficile Il primo sì E lo aspetto Hai fatto il preorder Del 2 No Non la prenderò Però la VR 1 È stata La mia prima Esperienza VR Molto Molto sì Beh È vero in realtà Perché Comunque è un'esperienza Che ti cambia proprio Che è molto particolare Che non l'hai mai fatto prima Quindi sì Te la ricordi È tipo Pandora Lo vedi e rimani Sì esatto Vuoi rimanere Non si può capire Finché non la provi La VR Non Solo che stavolta Secondo me Qualche Qualche cartuccia Sbagliata Sala sono già sparata Cioè il prezzo Troppo alto Quanto Costerà? 600 euro Eh ma costano Eh ma Intanto ci devi avere Una playstation 5 Eh no Infatti Quello che spero Quello che spero Per loro È che Si sveglino E decidano Di renderlo compatibile Anche su computer Perché un VR Solo per una console Mi sembra Un suicidio Incredibile No più che altro Per queste console Che sotto assai tre anni Ancora si trovano A fatica Boh Costano ancora Tanto Sì che poi Non è Non è stand alone Come l'Oculus Quindi No 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 Tu devi avere 500 euro Dei console Se te va bene Perché Devi trovarla Senza bundle Senza bagarini Senza altre Poi 600 euro Insomma Secondo voi Faranno il gioco VR Di God of War Lo faranno vedere Io c'ho questa C'ho questo presentimento Mi è venuta Questa in mano No 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 Se tu sei Atreus Con Kratos Che ti dice Boy Lancia una freccia E tu sei là Lancia le freccette Con questa Se lo fanno vedere Veramente Ricordate Ti ho sentito La prima volta Su Free Plane Mette quello di Horizon Quindi ci potrebbe stare Anche quello di Sì Mettilo nel forum C'è i leaker Come? Mettilo nel forum Dei leaker Così diventa vero Allo su Reddit Dice Così ti fanno l'articolo Così diventa Il noto Il noto leaker Di Free Plane E invece In chat Stanno litigando Su Hermione Chiu Sì Cosa ho detto No No anzi Non stanno litigando Lo stanno bullizzando Stanno dicendo Hermione Chiu era quello Dei due Battista Che si danno il 5 Sì È lui È proprio lui Eeeh 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 E' uno spazio Più inutile Credo di non averlo Guarda Io ci ho giocato Al primo In cooperativa E' stata Una delle robe Più divertenti Sì Sono d'accordo Come Fiammò hai detto Che è inutile E ora ci sei d'accordo Che divertente No l'ho letto Ho letto il commento Ho letto il commento Di Ah ok 93X Ah ok ok Che diceva Che Vabbè Arc Thompson Diceva anche Il VR E il Dark Soul Delle esperienze Rock you like Rock you like In prima persona Soggettivo interconnesso Open map Open zone Ok Open space Anche se si Eeeh No era molto bello Army of Chou Mi dispiace che Mi dispiace anche Di non aver giocato Il seguito Perché poi C'è Army of Chou 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 Esatto E' un treno Quello di NG Plus Tra l'altro Vedi Matt Che figo che era Army of Chou In coppia Era super tamara Ma si ma poi c'erano Le robe micidiali Tipo che uno Teneva lo scudo E l'altro Si metteva dietro A sparare Cioè era Era proprio Una di quelle robe Fatte apposta Per il co-op Che c'era Tutte le meccane Io mi sono divertito Tanto Tanto Eeeh Quando Ye Games Faceva ancora Giochi divertenti Vado ancora Faceva giochi Più che altro Non faceva L'Ultbox Con attorno I giochi Ma vabbè Resident Evil 4 Remake Capcom Sta ultimando Lo sviluppo Non ci saranno Rimandi Punto interrogativo Perché pare Che non ci sarà Dovrebbe uscire Il 3 marzo Non ti c'è Ormai Che esce in orario Vabbè E beh si Un po' come L'abbiamo pagato No perché Ah 24 marzo Eeeh Su Xbox Psegna in PC Eeeh Il dubbio Perché ancora Non hanno annunciato Di avere la gold Quindi Ma ma Un mesetto prima Però quella Scusa Boh Forse Le norma L'annuncio È un mese prima Ma boh Voi lo aspettate Tu l'aspetti Fabio Questo presentivo Lo giocherai Sì Lo giocherò Sicuramente Non so se subito Però sì Lo spero Stefano Tu che dici Io No Non vedo l'ora Lo ha comprato Lo sto Sto preordinando adesso Io per me Forse sarà La volta buona Che ci gioca Perché Il 4 ci ho giocato In tantissime volte L'ho iniziato Però Non sono mai No Vabbè ma questo Sarà un gioco Diverso Eh sì Come il 2 remake Proprio totalmente diverso Guarda Aspetto che esca E poi vediamo Ma l'averello Sembra tutto serioso Rispetto al 4 È vero Molto più horror Di spagnolo Sparare di spagnolo Però c'è la nostra amica Minimamente sul 6 Il 4 C'è la nostra amica Ella Freya Che farà Ma quanto è Bell Beh Non lo so Mi è un po' No è bellissimo Sem Funky TikTok Veramente una ragazza Ella Freya Un brutto forum Che è sta roba Vabbè Essendo in Giappone Emigrando in Giappone Aumenta moltissimo Il suo valore di mercato Alla ricerca del top manager Ricco giapponese Visto che una così È Deve essere interessante Sto forum E No Ovviamente io sono Completamente d'accordo Con quello che dicono Diciamoci La verità Non facciamo La politica di Corret Però lei è bellissima Nuovo gioco di Fumito Ueda Nel 2023 È possibile? È probabile? Ce l'aspettiamo? Ci piace Chi è Ueda? Può essere Come chi è Fumito Ueda? Quello di Ico Shadows È venuto a free playing? Ancora no Però ha detto che Nelle prossime puntate Ne parliamo Il biglietto di auguri Per il nuovo anno Distribuito da Fumito Ueda Che è GenDesign Sembra confermare Possibili annunci Del 2023 Dal team Hanno distribuito Questo biglietto di auguri Con due conigli Che scavano una buca Fanno il remake Di The Last Guardian No credo che faccia Una roba nuova E il biglietto dice Felice anno nuovo Finalmente un anno Nel quale saremo in grado Di portare tante novità Di cui parlare Stiamo facendo il nostro meglio Per rendere questo Un grande anno Per voi Speriamo di poter contare Su vostro supporto continuativo Nel corso del nuovo anno Quindi è tutto un cazzo Alla fine Però i conigli Che qua diceva Questa misteriosa immagine Dei conigli In realtà è perché L'anno nuovo Credo che sia Perché quest'anno L'anno del coniglio Sì Bruno se vuoi vedere Questa cazzo Mi scappa sempre Ma magari facessero Bugs Bunny In viaggio nel tempo Mi ricordo Magari Magari Scusate ragazzi Ogni volta che apriamo qualcosa La chat si Si fanno un'altra vaccata Come Resident Evil 3 Remake Best Ma che vaccata Resident Evil 3 Che carino Cioè magari Sì sì Molto bello Bello Si gioca subito su Peccato Per me quel gioco L'unica cosa è che All'inizio è fighissimo Con Nemesis Che ti segui dappertutto Poi diventa un corridoione Proprio Beh un po' sì Vabbè non è bello Come il 2 Remake Secondo me Però non era nemmeno male No no infatti Ah Bruno Se vuoi unire Gli uomini muscolosi Alle Tokyo Girl Metti i video Della Stardom Eh Video della Stardom Che ovviamente Ci faranno il super Copyright Strike Ragazzi io c'ho già Due copyright Strike Sul Ah sono le Vrestler S Sono le donne Combattenti Ah ma proprio Unire le ragazze Con gli uomini Nel senso che sono Metà In metà Ecco qua Ma va bene Ok Eh Konami Teases New development For familiar series Questa è una notizia In inglese Come avrete capito Nuovi sviluppi Infatti stavo Infatti stavo Stavo scherzando Non lo so Vediamo Castelvania Ma non sarebbe male Ma c'è un sacco di roba È che È tutta abbastanza interessante Io spero che Sperando non faccia Un altro clone Di God of War Eh esatto Esatto Era bello il primo Il Castelvania Mercuristile Il primo soprattutto Il secondo Non è Castelvania Però è un bel gioco Che cos'è Castelvania La Cioè Meglio quello Forse di quelli Tipo Devil May Cry Che uscirono Per Playstation 2 Che è quello Per Nintendo 64 Ah beh Certo In dubbio Devono farli solo Metroidvania Come Sinfoni O quelli che sono usciti Su DS Quelli È la sua forma giusta Secondo me Sono d'accordo Io tra l'altro Me ne devo ancora giocare Quelli su DS Ma tanto non me li giocherò mai Perché Il tempo è tiranno E va bene Va bene E poi Quindi queste sono Tutte le previsioni Per il 2023 Ragazzi Scriveteci anche le vostre Nei commenti qua sotto E mettete un bel like Suonate la campanina Din don Din don E Invece qua c'ho anche Prima di passare Extra credit C'ho l'angolo The Last of Us Con due notizie Proprio Succosissime E The Last of Us Il budget Della prima stagione È maggiore di quello Di 5 stagioni Di Game of Thrones Quindi ci aspettiamo Veramente Ci hanno speso Veramente Tanti 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 soldi Quindi quando esce Il Last of Us A marzo Ah quindi Il gennaio Questo mese no? No gennaio Esce la serie Gennaio Sì Ah meglio Tra pochissimo Ancora meglio Ma uscirà tutto insieme O tipo una puntata A settimana Poi che su HBO Sarà una puntata A settimana Ma in Italia Ha detto dove esce Su Sky Su Sky Sky now Sì Sky now Io me lo dovrò guardare In qualità merda Boh Non lo so Non mi convince Questo C'è Boh E inoltre Neil Druckmann Ha detto Che Ha Ancora C'è La storia di The Last of Us Non è finita E c'è anche idee Per un terzo capitolo Eh ma non c'erano dubbi No? Sì però Tutto quello che hanno fatto Dalla Playstation 3 In poi Ha spremuto la console Quindi Indubbiamente Da un punto di vista tecnico Io non vedo l'ora Di vedere cosa fanno Purtroppo Secondo me Da un punto di vista Che mi è piaciuto Last of Us 1 2 Sono giochi Che ho giocato una volta E poi basta Non mi viene voglia Di rigiocarli Per quanto L'esperienza Di giocarli Mi è piaciuta Purtroppo Secondo me Last of Us Dopo Dopo che è uscito Last of Us Tutto quello che esce dopo È un po' Last of Us Purtroppo Troppa influenza Secondo me Sui giochi successivi Anche Uncharted 4 Cioè mi piaceva Uncharted come era prima Al 4 Lo sapeva E non in Positivo Nel complesso Tecnicamente però Mostruoso Mi ricordo quando era uscito Proprio mascella in terra No La cosa incredibile Di The Last of Us 2 Che È meglio Di un sacco di giochi Che sono usciti Su PS5 Series X Ed è della scorsa Generazione E dici Boh Com'è possibile Cioè perché è uscito Veramente un sacco di roba Anche adesso Una Plague Tale 2 Che è uscito Che graficamente è molto figo Però Guardi l'animazione Dici Cazzo Però sono Sono brutte Rispetto Del Last of Us Sono brutte E su questo Del Last of Us È ancora Avantissimo Nonostante Poi io sento sempre Parlare quei discorsi Cioè ma Vecchia Gen Limita Limita Poi dici Cazzo ma limita Guarda Tire Del Last of Us Che fa meglio Di sta roba Che sta uscendo adesso Ma anche solo Anche Vabbè Ora paragonare A Zobo A Naughty Dog No vabbè Però anche Cyberpunk Che è Mega studione Ha fatto Ha fatto un mezzo Disastro C'è da dire Che loro Lavorando A parte che però L'hardware Delle Cioè delle ultime Due generazioni Di console Cioè È molto paragonabile Addirittura Dell'attuale Praticamente Quasi la stessa console Però su Playstation 3 Io mi ricordo Avevo visto anche un video Un po' di dietro le quinte Dove facciano vedere Che comunque La programmazione Del gioco Avevano Parallelizzato Tutti i task Su tutti i vari core Della Playstation 3 Quindi è una cosa Molto Ottimizzata Molto Specifica Ed è il motivo Per cui Tirano fuori Quella resa Da una console Che Che si è abituato A vedere Fare meno Tecnicamente Ma perché Le esclusive È così C'hanno un target Solo Quindi possono fare Di più Come posso dire Sì In questo caso Appunto Quello che intendevo Questa generazione Ma anche la scorsa Le due console Sono quasi identiche Quindi non Non ci sarebbe Un hardware specifico Della Playstation 3 Da sfruttare Però Quello che hanno tirato fuori Con Last of Us 2 È veramente impressionante Sì Tra l'altro Sapevo che Per The Last of Us 1 Sulla PS3 Hanno Alcune parti di gioco Sono scritte Proprio in assembly Quindi è roba È roba super tosta Cosa Scusate No Scusate Mi sono perso Un attimo Qua nel forum Dei brutti Che dicevano Un brutto forum Qua C'è uno che dice Boh Carina Ma sembra Che è cascata Intere In un bustone Di farina Di quelle industriali Io non so perché Però è molto carina Sì Ha un costumino Da La carnagione Vorrei tanto vederlo Questo Poi c'è questo Che scrive Molto astuta Emigrando in Giappone Aumenta moltissimo Il suo valore di mercato Alla ricerca Del top manager Enrico giapponese Visto che una così È considerata Normocessoide In Olanda Mamma Il forum Degli incel A me personalmente Fa male vedere una così Perché la mia intuizione Mi suggerisce Che una così Solitamente Ingerebbe amicizia A solidarietà Con uno come me Ma appena ci provassi Scomparirebbe Costandomi di brutto Nonostante tutti i sentimenti Gentili e carinosi Che avrei sviluppato Nel tempo per lei Mamma mia È proprio un male in terra Posso solo dire Ti capisco Fratello mio E quest'altro dice Non è un episodio Che leggiamo questi commenti Dice anche La furbacchiona Usava pure OnlyFans Per continuare A estrarre soldi Dai simp occidentali E senza mettere Una singola foto nuda Questo devo dire Che Guarda erano quasi meglio Le 14 cose Del nazismo Che leggevi Tre puntate fa Qualche tempo fa Ha fatto implodere La board dei videogame Su 4chan Per i suoi post In cui afferma Che le piacciono Solo gli asiatici Ma pensa Si sono cose più importanti Dell'altezza Eppure il suo ragazzo Era ovviamente Più alto Guarda qua Vabbè Comunque bellissima Lei Ah ecco Questo Questo proprio Si chiama Sigma Sucche Che è veramente Sicuramente Sarà Sigma Sì E scrive Che cook di merda Questi italiani Veramente basta Ma cosa sborsano Per queste nanette Patinate Viziate Da cui non attengono nulla Gente che compra Intimo usato Fiale di sputo Fiale di sudore Fiale di piscio Oh Ratti Magna merda Maledetti Questo per scrivere Questo posto Secondo me Si è voltato Per vedere il suo Scaffale Cosa c'era sopra Cioè E sotto gli risponde Quello del top manager Che dice Il possesso Della tonna A petti E quindi Mamma mia Io purtroppo Devo dire Che mi ritrovo Sempre in quello Che scrivono Questi ragazzi C'è un problema Grande Sigma Sasuke Bravo Brothers C'è fuori Un primo Lo cerco anch'io Un brutto foro Occhio che Simp è una parola Bannabile su Twitch Purtroppo La parola I suonari Sono i simp La parola Con la S Era un diminutivo Di simpaticoni Simpatizzanti Magari Simpatizzanti Va bene Io direi di passare Gli extra credit Inizierei con Rob Che ci racconterà Le ultime 48 stagioni Di The Walking Dead Vero Rob Beh Si raccontano Anche abbastanza in fretta Perché più o meno Succede sempre la stessa cosa Quindi Ed è il motivo per cui Ti rompi le palle A parte Le puntate Completamente inutili Tipo quando danno La caccia al topo Cosa di questo tipo Ma Cioè è finito The Walking Dead Non è finito Cioè Che punto sta Sono dei furbacchioni Perché La feglia Eh esatto C'hanno pure L'onni fan Praticamente L'hanno Hanno trovato Il modo di finirlo Senza finirlo Perché si vede Che vogliono Mungere ancora un po' Questa Questa vacca Che Come dicevamo Su NG Plus Cioè la gente Probabilmente Io ho compreso Lo continuo a vedere Per una sorta Di 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 senso Di rappimento Ormai Di Di Ecco esatto Bravissimo Quello che stavo cercando Perché Vuoi sapere Cosa succede dopo E si riesce A fare ancora più schifo E Riesce Riesce Quindi L'hanno finito Praticamente Ma il sospetto Era Era molto alto Perché l'ultima stagione L'undicesima È divisa in tre tranche Di otto episodi Che hanno pubblicato Con un po' di distanza Uno dall'altro E si capiva Che La vicenda Che stavano trattando Andava un po' Per le lunghe Quindi Non è che ti aspettavi Il ritorno Di certi personaggi Spariti da un po' Nell'ultime due puntate Sarebbe stato ridicolo Quando sono arrivati Proprio alla fine Dici ok Chiudono questa E Si inventano qualcosa O di ridicolo O per fare Per andare avanti O per fare E poi Vabbè Hanno confermato Gli spin off E quindi Praticamente L'ultima puntata È di una tristezza Incredibile Proprio anche Visivamente Come realizzazione E hanno già annunciato Mi sembra almeno Tre spin off Tutta una serie Di serie Che spuntano Come i funghi Per cui praticamente Non muore nessuno A partì cattivi I buoni Si dividono Buoni Si dividono Tra i vari spin off Che usciranno Poi li cambiano Li rimodellano Insomma Dipende Prima dicono Che fanno una cosa Poi la cambiano Poi Sono solo 6 puntate Poi sono 12 Però Completamente Trascurabile Dal mio punto di vista Ma quindi Finito Non è finito Cioè è finito Walking Dead Ma Si vede che Tengono il brand Walking Dead Per fare tutti questi Spin off La storia Finisce praticamente Solo quello Che stavano facendo Ma non Non c'è una conclusione Ecco Devo dire Io non ho idea Di come finisca il fumetto Non lo voglio neanche sapere Perché Magari lo leggerò Però so che è finito Da qualche anno E Qui non c'è Non c'è per niente Un finale soddisfacente Non Come se finisse una puntata E Sono tutti felici E contenti E E poi ognuno Andrà un po' per la sua strada Quindi Per sapere cosa Ragazzi ora di verlo Spin off Si si Ne escono Almeno 3 di spin off Che io sappia E su chi sono Uno sicuro Su Daryl Gli altri Si Adesso Mi 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 stanno Dunque Aspetta Mi sta sfuggendo proprio Cioè Me ne fregava talmente tanto Che non mi ricordo più neanche I nomi dei personaggi Cioè ti dico proprio Daryl Daryl è quello Con i capelli Onchi Si 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 lui Quindi The Walking Dead Presenta Le avventure di Daryl Poi Una roba del genere Si Una roba del genere E se lo spin off Di Daryl Fosse Death Stranding E beh magari Scusate Sarebbe un gran colpo di scena Che comunque Post apocalittico Anzi Avevo sentito che Quello di Daryl All'inizio doveva avere anche Carol Che tra l'altro è il personaggio Proprio che sopporto Meno in assoluto Della Della serie Era ancora viva E c'è ancora C'è ancora Si si E Sono riusciti Sono riusciti a A tenerla fino all'ultimo E invece ci sarà solo lui C'è Quello di Rick e Michonne Che sono appunto i personaggi Che erano spariti E Non Non immaginavo Che li tirassero dentro L'ultima puntata Così a sorpresa E infatti Cioè Posso spoilerare Li fanno Si 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 Li fanno intravedere In una scena finale Separata E Si sa già Che ci sarà Il loro Il loro spin off Ma Ci sarà un altro spin off Con Negan E Maggie Che appunto Hanno sempre Questo rapporto Conflittuale Anche perché lui Sai com'è Gli ha giusto Ammazzato il marito Cioè vabbè Diciamolo Vabbè ma Ma sono dettagli Cioè uno dopo Dettagli Cioè Vai avanti Diciamo Poi si fa Anche perché I problemi non sono quelli Ma sono gli zombie Eventualmente Che Di cui ogni tanto Si ricordano Ma Però sì È un esempio Veramente Di 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 cui mi chiedo Come si può avere in mano Un franchise Così Così bello Così seguito Così amato E potenzialmente Interessante Ma magari non per Undici stagioni Più spin off E mandarlo Completamente In In vacca Rendendolo Completamente Non interessante Da seguire E ripetitivo Anche Magari È una di quelle robe Che va bene Mettersela in sottofondo Così Perché magari Noi siamo Non so Tu lì Te lo vedi In inglese O Doppiato No Avevo iniziato A vedere in italiano Per cui sono andato avanti In italiano Non Non riesci a fare Tipo che Mentre lo metti Intanto fai altro Non lo so Lavi i piatti Pusci La casa Ma io I telefilm Per lo più Li seguo Mentre mangio Quindi pranzo E cena Quindi comunque Sto facendo Qualcos'altro Eh però Mentre mangi Comunque Devi stare Cioè Stai attento Mentre invece Poi vi dico Mentre fai altro Ci stanno comunque Quelle serie Che te le mettono là In sottofondo E via Magari Forse È una serie Che ci hai investito Talmente tanto Che volevi vedere Come finiva Sì Forse È diventata Un'abitudine Sai Da spettatore Sì Senza dubbio Cioè Tu dici Mi manca poco Perché Voglio vedere Mancano otto puntate A sto punto Fammele vedere È comunque Un impegno di tempo Che potrei fare Qualcosa di più Più utile Più divertente Però loro Io mi chiedo Proprio loro A livello di produzione Si vede che comunque Ne hanno un ritorno Nonostante Tu se vai a vedere Ma anche solo su wikipedia Banalmente Gli ascolti Delle serie tv Stagione per stagione Poi Sarei curioso di sapere Magari da qualcuno Che ne capisce di più Quanto sono attendibili Questi numeri Cioè Queste serie Proprio hanno Un inizio Poi sale Un picco Nella parte più interessante Poi hanno un declino Anno per anno Parlo di queste serie Che vanno avanti Fino alla nona Decima 15 stagioni Altre serie Perché io mi chiedo Le ultime 5 6 stagioni Con degli ascolti Che sono Calati tantissimo Rispetto a quelle interessanti Perché comunque Continuano a farle Qui addirittura Andranno oltre L'undicesimo Tramite gli spin off Mi chiedo Evidentemente Hanno il loro ritorno Perché sicuramente Farlo per perderci Dei soldi Non Però da un punto di vista Artistico Comunque di intrattenimento Vai Se vuoi dire Cioè comunque Mi interessa L'intrattenimento Poi La parte artistica È un'altra cosa Non ti danno Neanche quello Quindi mi chiedo Perché Oppure se Gli autori Comunque i vari autori Delle varie puntate Perché sono comunque Tanti scrittori Cioè sono comunque Convinti di fare Qualcosa di buono Per la loro carriera O comunque in generale Per il mondo Di telefilm Non si rendono conto Poi vai a vedere Anche le recensioni A volte dicono Ah questa stagione Veramente Molto bella Ha mostrato Questo e questo Ha messo in risalto Questo E tu dici Boh C'è una stagione Che sinceramente Mi è sembrata Molto molto mediocre Cioè Non Non lo so Cioè sembra ci sia Proprio un distacco Tra il mondo E gli spettatori E quello Di chi ci lavora Beh quello Si vede anche In moltissime altre serie Si vede Questo distacco Tra Tra Recensioni E realtà Beh le recensioni Sono tutte comprate Si sa No Non lo so Dai dai Di la verità Eh Io Che ne so io Eh Che ne so Eh No Comunque dice Janus Bifront Dice Io in sottofondo Metto free playing Purtroppo in questo modo Lavo i piatti Una volta a settimana Ma si dai Ma poi tra l'altro Ci metti Quante è Un'ora e mezza De lavare i piatti Quanti piatti sono E quelli di tutta la settimana Beh E' anche vero quello Dopo per riempire i giorni Della settimana Con dell'usato garantito E No vabbè Walking Dead Si Mamma mia Basta Vabbè è finito Dai Ce lo siamo tolto davanti Tra l'altro poi Boh Va bene Ma non è finito Ma non è finito Basta Non muore mai E' non morto Giustamente Muore e ritorna Esatto C'è che poi Kirkman Aveva detto No Walking Dead Andrà avanti All'infinito No E' una storia Che vale Dopo due anni Ha detto No vabbè basta Ragazzi Lo chiudo Il fumetto Barbo Panda Dice finalmente Vi ribecco live Volevo dire che Da quando il cast Podcast è rivoluzionato Il Bruno ha molto Più possibilità Di andare a ruota libera Spesso pare di essere In un qualche B-movie Con Lino Banfi Con il porcone di turno Ma abbiamo comunque Anche noi Tiamiamo barba Sempre E C'è qualcos'altro Rob Non so Se volete sapere qualcosa Cioè Io non mi ero preparato niente Perché mi avete pescato Proprio così All'ultimo Che stai giocando In questo periodo O che stai vedendo Ho finito Stray Ma ne ho Ne ho già parlato Sia su Mustache Che NG Plus Sto Gioco dell'anno Sono Ecco no Guarda Mi fai Mi fai venire In mente una cosa Stray No assolutamente No 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 Ma ci scriviate Stavo scrivendo prima I miei compagni di stream Conigliastro E Alessio Di Trikes Gli ho detto Che mi avevate Invitato così All'ultimo E Alessio mi ha detto Sai il coraggio Parla male di BB E io gli ho detto Ma perché devo parlare male di Bruno Però Intendevano Di Bloodborne Perché Siccome sto giocando Bloodborne In stream E Sono stato critico Magari intendevano Brigitte Bardot Che ne sai Eh può darsi Può darsi E E invece no Era Bloodborne E E niente Però Vabbè Su questo è un tema Che siamo andati Oltre la Sì esatto Oltre la trollata Quindi rischiamo di Di litigare Però se ti piace Il fantasy No no Ma parla male di BB Qua è un Un safe space Nessuno ti Non credo proprio Vabbè Fabio Dai Fabio non gli piace Scorno Quindi Vabbè Ti riequilibra la cosa Che cos'è Che non ti piace Ho appena finito Di leggere un libro Che consiglierei Parecchio Anzi Consiglio parecchio Harry Potter No 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 Il libro si chiama Slay in the dragon E E' uscito Qualche mese fa E' scritto da Ben Riggs Autore che non Non conoscevo Ma A quanto pare Ha un podcast Dove parla di 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 D&D E comunque Ha collaborato Anche con Altre cose Nell'ambito Di giochi di ruolo E' un libro Non molto lungo Scritto Veramente Veramente Bene E parla Della storia Di D&D Cosa che ormai Mi appassiona Da due o tre anni Proprio Sapere tutti i retroscene E le cose Ma è Molto interessante Perché non è scritto Con tutti Mila dettagli Che rendono il libro Lunghissimo Come magari hanno fatto Altri autori E' anche un po' noioso Ma è fondamentalmente Il frutto di Una serie di interviste Che lui ha fatto Alle persone Che hanno lavorato Per la TSR Che è l'azienda Appunto Che è stata creata Per pubblicare E' proprio quello Che stai facendo vedere adesso E' stata creata Per pubblicare D&D Nel 73 74 E' esistita Fino al 97 Fino a quasi Alla fine degli anni 90 Quando poi E' E' fallita E' stato acquisito Tutto il franchise Dalla Wizard of the Coast Con i mega soldi Fatti con Magic the Gathering Ed è molto interessante Perché è scritto Molto molto bene E Passa tutte le varie fasi Da quando c'era Gary Gygax All'inizio Fino a quando poi L'azienda è passata Nelle mani di Lorraine Williams E Gygax E' stato stromesso Nell'85 E fino a tutta la gestione Degli anni 90 Dove hanno pubblicato Una caterva Di ambientazioni Tra l'altro Poi il libro spiega Anche perdendoci Dei soldi Perché non Non gestivano molto bene Nella cosa finanziariamente Appunto Fino a poi arrivare Nel 97 A dichiarare fallimento E ahimè Essere acquisiti Perché Lei in realtà Non sopportava L'allora presidente Della Wizard of the Coast Peter Adkinson Ma alla fine Ha dovuto cedere Per salvare Le persone Che erano rimaste E tutti i brand Ed è stato acquisito La prima cosa Che hanno fatto Poi è Il libro non ne parla Perché si ferma Proprio lì La creazione Della famosa Terza edizione Di D&D Del 2000 E quindi Probabilmente Se riesce L'autore farà Anche un libro Parlando del seguito E anche quella È una fase Che è Molto interessante Dal mio punto di vista Perché Avere in mano Riuscire ad acquisire Quello che è stato Il gioco Che lo stesso Presidente di Wizard Aveva giocato Tutta la sua La sua giovinezza Diciamo Oltre al momento Di Di emozione Poi Gli ha fatto dire Ok Adesso cosa ne Facciamo Perché comunque L'azienda Era piena di debiti E hanno fatto La scelta Di pubblicare Subito una nuova edizione E anche questo Da un punto di vista Di scelte Di cose Che hanno dovuto fare Sarebbe molto interessante Sapere Tutti il retroscena Per cui Se vi piace Il D&D Vi interessa saperne di più Non è un libro lunghissimo Perché sono comunque 280 pagine E scorre Veramente Veramente bene Qua addirittura Dice Una recensione Che alla fine Si piange Tu hai pianto No Penso si riferisca Il fatto Perché Nell'ultima parte C'è un capitolo Dove parla Di quando Hanno dovuto Licenziare Tutta una serie Di persone Se sei una Diversione Piangi E si parla Di una giornata Tragica In cui la gente È arrivata E al posto Di mettersi a lavorare Fondamentalmente Erano Alla loro scrivania In attesa Di essere O meno Chiamati Nella sala Riunioni Dove Appunto Alle persone Veniva detto Dobbiamo fare A meno dei tetti Lo dobbiamo lasciare a casa Sì Quello è un capitolo Un po' Un po' Triste Però narra un po' Di tutte le avventure Insomma Anche quando C'è un capitolo Che parla Di quando La wizard Cioè Si è resa conto Di Più o meno Metà anni 80 Di non Fino anni 80 Scusami Di non Non voler più Fare D&D Come giochi Ma Di espandersi Dopo la serie Di cartoni animati Che erano riusciti A A far produrre Ma anche nel mondo Dei fumetti Avevamo un accordo Con la DC Stava pubblicando Dei fumetti Di D&D Anche con Un discreto successo Hanno voluto Mettersi in proprio Aprire una Una divisione Della TSR Solo per pubblicare I fumetti Hanno fallito Miseramente Con tutta una serie Di scelte sbagliate O la parte prima Dove Gygax All'apice del successo All'inizio degli anni 80 Si allontana Dall'azienda Per andare Verso Verso Hollywood Compra una Comunque una villa Un'abitazione lì Dove Dove Stava trattando Per fare il film Del D&D E nel frattempo In questa In questa villa In questa casa Ne succedevano di ogni E' un po' strano Perché non penseresti Che i super nerdoni Che hanno creato E che comunque hanno Eh ma quelli Sono i peggiori Guarda Esatto A un certo punto Hanno questo successo E E poi smattano E vanno a fare Queste cose Hollywood E nel frattempo L'azienda Stava prendendo Un'altra direzione Mentre lui era lontano Vabbè Ma comunque questa È la È la storia Ce l'ho sempre Un po' spoilerato Però questo È un po' sì Però ti ho voluto Dire alcune cose Per ingolosirti Anche un po' Sempre se ti interessa L'argomento Guarda Sono aumentati Gli spettatori Parlando di fantasy Sì sì No Guarda Il signor degli anelli Bellissimo Dicevi Ludo Eh I merdoni Sono quelli Che poi Si sfogano Appena Eh infatti Infatti Tutte le robe represse Specialmente Eh Quello di Eh Quello della Crypto Banca Lì tu era Eh beh sì Ma lui giustamente Faceva le oce Cioè Con la droga Sì Ma quando c'è Tutti quei soldi Che cazzo di fare Cioè Non è che Eh no Ha fatto bene Ha fatto bene Ha fatto male Ha fatto male Un'altra cosa Però Va bene Ludo Tu c'è qualcosa Che ci porti Che ci porti Qualcosa di fantasy Però Ti porto no Niente Purtroppo Niente fantasy Niente fantasy Ti porto una cosa Che non è nuovissima Ma io ho comprato adesso Quindi per me è nuova Sai Le fanno molto velocemente Che poi scappo Mi sono comprato Visto che in questi sconti Recenti È sceso a un prezzo Che ho ritenuto Accettabile Ho comprato Red Dead Retention 2 Sono veramente contento Dell'acquisto Perché Io sono Un grandissimo fan Dei giochi western O comunque Tutto Anche film E tutte quelle cose lì Però non mi chiedere Di farti Elenchi di film Sì infatti I giochi western Quanto ne sono usciti Due in tutta la storia È solo che Di giochi A tema western Ne escono Quattro In dieci anni Ne escono Pochissimi Cioè quest'anno Ultimamente Ne sono usciti Pochini Qualcosina è uscito Tipo Hard West Però Niente di Niente di Veramente grosso Niente di Veramente interessante Red Dead Redemption 2 Probabilmente Sarà anche l'ultimo Che Rockstar produce Quindi godiamo Anche perché Ok che ha venduto Ma non ha venduto Così tanto Come GTA 5 Non penso che Non penso che Un Red Dead Redemption 3 Con i costi Che hanno di sviluppo Lo penseranno mai O almeno Secondo me no Ma chi è che ha venduto Più di GTA 5 Scusami se ti interrompo No vabbè Quello nessuno Però immagino che Rockstar Per quanto ci spenda Ci voglia guadagnare Più o meno uguale Quindi Cioè Red Dead Redemption 2 Da quello che ho visto Comunque ha fatto Quanto? 50 milioni di copie Che sono tantissime Però Considerando Quanto ci spendono Per fare sti giochi Non lo so Se poi Se poi a loro Conviene Alla lunga Perché adesso Questo gli è costato Non mi ricordo quanto Con 1700 persone Per sette anni Un Red Dead Redemption 3 Ci metteranno Dieci anni A svilupparlo Con Due miliardi di persone Quindi non so Se effettivamente Poi Gli converrà Oppure diranno Ok no Facciamo anche no Facciamo GTA 7 Direttamente Magari facessero Max Payne 4 Ah no Quello è ritornato A Remedy O sbaglio Stanno facendo Il remake Dei primi due Di Max Payne È sempre di Rockstar È sempre di Rockstar Però Gli ha concetto Di fare sti remake Sono molto contro I remake Tra l'altro I contro I remake Sono molto contro I remake Perché Ma perché molto spesso Non portano niente Cioè Guardati per esempio Il remake Che hanno fatto Di Di MonSoul Che ha gli stessi Identici problemi Del gioco originale Ok Graficamente Migliore Però Graficamente Poi Le cose Invecchiano Invecchiano sempre Quindi a sto punto Cosa fai Ogni Ogni dieci anni Fai un remake Del gioco Sì Il mercato Dice No Allora A livello A livello Monetario Allora ovviamente Conviene Ti rifanno lo stesso gioco 46.000 volte Tu poi Te lo ringhiotti Tutte le volte Perché dice Tu ricordi Tu ricordi Mi sa che Di MonSoul È proprio Un remake Nel senso Hanno preso Il codice Del gioco E l'hanno adattato A PlayStation 5 Sì Sì Sotto il codice È uguale Alle stesse animazioni Hanno rifatto La grafica Sì Sì È quello che Stavo dicendo Io Non so cosa faranno Con Max Payne Se lo rifanno Da capo Però se il gioco Poi alla fine Dice ok Si migliorerà Però Se poi alla fine La storia è quella Il procedimento È quello Alla fine Sì L'hai rifatto Graficamente Però Stiamo Stiamo lì Non lo so Io Preferirei Preferisco Io capisco Che loro facciano Un remake Per chi gli convenga Perché la gente Poi compra Per nostalgia Però Io sono Sono molto Della filosofia Del chiudere E andare avanti Comunque parlando Di western Gli ascoltatori Sono ancora aumentati Quindi Parliamo un po' Di questo Red Dead Redemption Gioco western Gioco western E cosa si fa No no Allora È molto figo Io adoro Allora Mi aspettavo Quando l'ho comprato Mi aspettavo Effettivamente Di giocare Un GTA Nel West Nello spazio Giocare Un GTA Nel West E invece No Mi sono ricreduto Perché Non è un simulativo Perché sarebbe Esagerato Da dire Però è molto Ma molto Molto Più Immersivo Come gioco Perché per esempio Il cavallo Gli devi dare Da mangiare Devi stare attento Che non si sporchi Anche tu devi mangiare C'è questa meccanica Che ti devi tagliare La barba Che è assolutamente Inutile Però è bellissimo E quando fai le rapine Ti devi mettere la maschera Perché altrimenti Ti riconoscono Quando uccidi qualcuno Hai in modo di Hai in modo di Di farla franca Tra l'altro Perché Se ci sono dei testimoni E riesci a fermarli Ovviamente Se lo fai in città Non li fermerai mai Però magari Sei in un Vicolo Sei in una In una frateria Uccidi uno Magari qualcuno T'ha visto Dice ok Adesso lo inseguo Lo ammazzo anche lui Così non ci sono testimoni E quindi riesci a scampartela E quindi C'ha questo C'ha questo C'ha questo Diciamo Tra virgolette Realismo Che lo rende molto Molto interessante Però scusa Adesso ho messo il video Dell'ex capo mafia Che reagisce A Red Dead Redemption 2 Non sto sentendo l'audio Ma dalle facce che fa Sembra che ti stai dicendo E' tutta una cazzata Cioè quindi Vabbè allora Per quanto Allora Per quanto Occhio che però E' un capo mafia Ex capo mafia Quindi No Rockstar Secondo me Ha un grosso problema Nei loro giochi Cioè Non so come dirlo La loro forza E' anche la loro debolezza Nel senso Loro creano questi mondi Super immersivi Super grandissimi Dove puoi fare Un sacco di cose Perché appunto Stavo anche dicendo Che Anche quando tu Cavalchi a caso Incontri sempre Degli eventi casuali Che ti interrompono Ti chiedono di fare qualcosa Ed è molto immersiva Sta cosa Però Quando giochi La storia principale E' molto E' molto cinematografica E non vuole Che tu vai fuori Dai confini Cioè proprio Lo vedi Che il gioco Non vuole Non vuole che sconfini O dice Guarda che devi andare lì Zit e muto E che è un po' strano Poi tra l'altro In un gioco Che appunto È open world Vorrebbe Vorrebbe farti fare Tutto tutto quanto Come ti pare a te E poi Quando giochi La storia principale Dici No no Non fare così Eh no Eh no Per esempio Io ieri Ho fatto una missione Dove dovevo seguire Uno a cavallo E E c'era palesemente Un terreno Scriptato per terra Dove il cavallo Camminava Tu premivi solo dritto E lì faceva tutte le curve E un po' Ti rompe E un po' Di immersione Però Non so Lo trovo Trovato molto interessante Devo Devo ancora provare L'online Ma immagino Che sia come il GTA 5 Quindi lo giocherò Appena Appena Puoi anche giocare A carte online Puoi giocare A carte Sì Poi c'è anche Domino Non so se si può fare Anche online C'è il poker E la cosa più divertente Quando perdi il poker E allora spari a tutti I leader rubi Che è molto immersivo A livello west E cos'è Ah no Ecco Poi anche quando ritorni C'è anche questa cosa Di gestire il campo base Della banda Perché il gioco si svolge Si svolge nel 1899 Quando era mai L'era del Della west Adesso l'ho cancellato Tu sei sentito Ah sì La serie tv Sì Invece mercoledì Il fenomeno Del Ovviamente con tutto il rispetto A Seven X Che si vuole sposare La La protagonista Però Protagonista di cosa Di mercoledì Mercoledì Ah Come si chiama Mercoledì Eh no La tizia Ortega Mercoledì Mercoledì E oggi Bruno Hanno rinnovato Hanno rinnovato Tipo per 300 stagioni Mercoledì E 1899 Forse sono l'unico Telefilm Che devono rinnovare E non male Che non l'ho iniziato Ma secondo me Lo puoi anche iniziare Perché comunque È interessante Eh no Non finisce Magari lo riprende Amazon Cliffhanger E allora Quando lo fanno L'inizio Se no mi resta Dai Come se dicessi Che non ti vuoi vedere Gli uavvi di Devilman Perché poi dopo il secondo Non l'hanno continuato No C'è il ter Infatti No non è vero Io il secondo L'avevo visto E poi è uscito Anche il terzo E quindi ok Come dire Che non vuoi giocare Half-Life 2 Perché hanno fatto il 3 Eh beh no Aspetta Però è uscita Altra roba Dopo collegata All'Half-Life 2 Sì Anche È uscito Che sta cosa Eh no Anche Episod 15 anni Episod Quello Ah Attenzione Che abbiamo perso Un ascoltatore Quindi basta All'Half-Life 2 Ti ricorri No l'ultima cosa Che volevo dire È che è molto figo Anche la gestione Della banda Perché appunto Stiamo parlando Del 1889 La serie si svolge Nel 1899 Che è la fine Praticamente Dell'era Del secolo Dell'era Sì a parte del secolo Era anche la fine Dell'era del selvaggio West Oramai l'America Anche da quel lato lì Si stava civilizzando E quindi Fanno fatica A essere una banda Di ladri E loro già iniziano Infatti il gioco Inizia che loro Sono in fuga In mezzo alla neve È stato bellissimo L'inizio E c'è anche Tutta questa gestione Scusa Bellissimo inizio Parliamone Di cosa Lì delle delle Non ti piace? Ma è bellissimo Vabbè Devi stare Quattro ore Là nella neve A camminare Dopo Passo a passo È immersivo È immersivo Però Porca buttata Vabbè Poi non è che dura Chissà quando Due orette Due orette Con lo schermo bianco Come immersivo Guarda C'è un fiocco di neve Diverso Bellissimo Vabbè Quindi C'è tutta la gestione Della Della banda Che devi Puoi aumentare Puoi Puoi migliorare L'accampamento Gli puoi portare Il cibo Che vai a cacciare Glielo puoi portare Vedi lui Vedi tutte le fasi Di lui Che se lo cucina Tra l'altro Non è come Nei giochi Ubisoft Che fa finta Di cucinare E poi 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 Si vede Si vede Proprio il cuoco Che si fa tutto Si fa tutto Il tracciato Prende la carne La taglia La taglia a cubetti Poi la mette nello stufato L'assaggia Poi leggevo su internet Che tra l'altro lui Se gli porti del cibo scarso L'assaggia e lo scudo Perché gli fa schifo No Così Quindi È proprio figo Questo Questa cosa Dell'immersione Ed è veramente raro E trovarla E se lo compare a giochi Come Ubisoft Che ti riempie di segnalini E poi fai sempre la stessa cosa Fa molto strano Fa molto strano Però vabbè Loro hanno anche un budget Praticamente illimitato E persone illimitate Per svilupparlo Quindi È un po' Un po' Un confronto impietoso E basta Vorrei in verità Che ne facessero un po' di più Anche non per forza Open World Però Qualcosa di più A tema West Che è sempre un tema Molto bistrattato Ha avuto il suo momento Negli anni 70 60 E poi È collassato Su se stesso E vabbè Hanno un po' Non un po' Rotti i coglioni Diciamo Come quando ci ricorderemo Tra 30 anni Che avranno appena finito Di fare i film Della Ottanta fase Dell'universo Marvel Direi Abba Forse è finita O forse no Chi lo sa Chi lo sa Boh Va bene Ragazzi Io ne approfitto Che vado Tardissimo Sto svenendo Infatti Infatti Ciao Fabio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao Unbraccino Andate insieme Come mai Per questa L'ho detto prima io però Io Io non li ho mai visti assieme Nella sua stanza Quindi Eh sì 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 Per ora Vabbè Bellissima live Ragazzi Iscrivetevi a Freeplaying Abbonatemi Fatevi il padre Compratevi il ruvido In sconto Di cero Non esatto Non esatto Anzi andate a Bologna Fatevelo autografare E poi speditemelo E poi speditelo a Biggio Sì Cercate Cercate Stefano Ma viene a Bologna Non ci vengo a Bologna Non ci vengo a Bologna Non ci vengo a Bologna Ma è solo perché L'ultima volta Poi c'è stato il covid Settimana dopo Solo quello No no Era durante in realtà Siamo noi che non lo sapevamo In realtà Era quello E se ci pensi Nessuno di noi Si è malato In certi casi Purtroppo Quindi Beh Sì c'era già il covid Però Mi sembra che Una o due settimane Dopo il raduno Sì sì No no Dopo diciamo Ci abbiamo finito noi Ed è esploso il covid Praticamente Il che forse è coadiuvato Dalla nostra presenza Concomitante Sto iniziando a pensare Stavamo in parti diverse Dell'Italia E fuori Abbiamo sparso il virus Esatto Per arrivare lì No ci troviamo Guarda io ti consiglio Un posto molto bello Zurigo Wow Città pulita Sì Gente tranquilla Che lavorava Non è che è troppo lontano Da dove stai No no Ma guarda io Mi prendo Guarda Pur di vedere Ludo Io vado Ma dove serve Anche a Zurigo Se serve Quindi Non c'è nessun problema Figurati Quindi torna presto E Torna bene Esatto Ecco qua Ma Ma Non ci stavo neanche pensando Capito L'anno scorso Ci siamo visti Alla Games Week Anche con Ludo Ah sì Ah sì Certo È vero Eh sì Ma come Ah sì Devi dire sì Ma scusi No perché L'anno scorso Stavo passando Il 2022 Stavo schiumando E infatti Era il 21 Sì è vero È vero Io ero Nessuno Ci sono andato da solo Pianto Mi spiace Io stavo schiumando come i nemici dell'uomo tigre Quando cadono in terra E poi riesce la La schiumano Dalla bocca Vediamo se quest'anno Va meglio Magari riesco a fare Delle cose in più Tipo Tipo Sopravvivere E queste cose Quindi stessi Vediamo la Games Week Quest'anno Come tutti gli anni Eh come tutti gli anni Ti aspetto Bruno Che Prima Ti aspetto l'altro Ti aspetto l'altro Ma anche prima Dai L'estate vi consiglio a Cagliari Come città invece Per fare un raduno Ma fa caldo a Cagliari Eh no ma giugno Sta bene Non ti preoccupare Beh giugno Vi saluto Vi saluto È stato magico Ciao Fai da bravo Ciao Grazie Grazie Comprate Ciao Comprate Ciao Va bene E Chi è rimasto Matteo Ci fai un extra credit Su Avatar 2 La via dell'acqua Della seta Avatar 2 L'ho visto E Dura troppo Quanto due Tre ore Stefano Ti si sente Ma lui non ci sente Eh come Ti si sentiva che stavi Dicendo robe Non si capisce come Ah Favo un pezzo di pane in bocca Stavo parlando Forse quello Non mi ha Non mi ha aiutato Vabbè dicevi Allora Avatar 2 È bello Ma Dura troppo Quanto due Eh Tre ore e un quarto Eh Ammazza Tre ore e un quarto Cioè quindi tu entri Quanto una punta di free paint No Non puoi fare Non puoi fare altro Nel frattempo Sì infatti Non puoi lavare i piatti Sì Ma sette nuovi standard Per la cg Sì è bello da vedere Però Io lo vedo Non c'ha l'effetto Uo Del primo film No Ma c'è anche in 3d Sì Ho visto in 3d Sì sì Ma non i max Perché è sempre pieno L'imax Quindi Non lo so Ne vogliono fare altre 3 Cacati cazze Ne vogliono fare Ma quanto Si paga per vedere Tre ore di Di film Tanto Quanto Tanto Non me lo ricordo È bello Non sto dicendo Che è un brutto film Però Boh Troppo Troppo Sì ma Non lo sai Che ripensandoci Non mi viene in mente Di che parla No Grandini Insomma Scene particolari Cose Beh Volano Nuotano No più che altro Nuotano nel film Perché sono nell'acqua Cos bro Dura tanto Io Sono blu Sono blu Ma c'è sempre Sam Worthington Chi È il protagonista Del primo Sì Da qualche parte Ci dovrebbe essere No nel senso L'attore c'è Però Tutto un coppio Teografica Fabio Volanti Dice che ha pagato 14 euro In 3D Allora Sicuramente anche No ma Ma che sta dicendo Tutta la bagnotta Di pane Non ti dà Non mi preoccupare Sette centesimi Al minuto Ha pagato Sì No ma Lo sai quando Vedi qualcosa È bello Però Non Non posso dire È freddo Ti lascia indifferente Poi Non 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 Nel senso Apprezzo Come si dice Lo sforzo Tecnico L'achievement Lo sforzo tecnico Sì Però poi A livello di storia Non mi ha lasciato Niente C'è un'ora Di battaglia Finale Sì Che poi c'è Il cattivo Del primo C'è Perché Prima che morisse Nel primo Gli hanno fatto Una foto Una copia Del cervello E l'hanno messo In un avatar Quindi nel 2 No no Niente È bello È bello Però Non Non ci viverei Non ti ha convinto Vabbè Devono Io non l'ho visto Mi dispiace Ah guarda Niente Visto cos'altro No No non è vero Allora L'hai visto allora No non l'ho visto No non c'è tra niente a questo Vi preannuncio Che Ho comprato Un Fairphone Ma ne parlerò meglio La settimana prossima Così Ovvero Ho fatto un paio di settimane Di utilizzo Però Vi consiglio Molto rapidamente Visto che Si è anche fatta Una gerta E Un'app Che praticamente Sarebbe uno Spotify Per la musica classica Solo musica classica A chi piace È schiama È scritto Idagio Com'è Adagio Ma con la I Un'app Si chiama Idagio Come Adagio Esatto Adagio Ma con la I È un'app Tettesca Ci sono un sacco di belle cose Tettesche Ma Funziona estremamente bene Se vi piace la musica classica Lì è È ottimo C'è lo Spotify Della musica classica Esatto Esattamente A chi A te piace la musica classica Eh Sì Medio Tipo 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 Jefferson Airplane Beastie Boys Sto scherzando Mi piace Stravinsky Mi piace Rossini Mi piace Rossini Ma scusa Me lo chiedi Ti rispondo Mi prendi per il culo Ma l'ho capito Ma scusa Ma la musica classica Non c'è su Spotify Cioè perché Sì no Qualcosa c'è Però questa è Come direi Tutte le cose Per appassionati Infatti io La consiglio Ma il mio uso È molto limitato È proprio le varie orchestre Magari i vari direttori Con le cose specifiche Insomma È molto Per appassionati Chiedono se è gratis Gratis Sì è gratis Come Spotify Diciamo Alla stessa C'è le pubblicità Sì Stesso Stesso Cioè la versione premia Ma quella normale Però carina E poi niente Lunedì immagino Faremo l'episodio E niente E parlerò meglio Del Fairphone Ma tu la musica classica La metti in sottofondo O L'ascolti Facendo solo quello No La metto in sottofondo A meno Per un secondo Sì Ma Sì Ma sei mai stato A qualche concerto Di musica classica Sì E non pochi No Non tantissimi Ma neanche uno Saranno Boh Un periodo Ci andavo abbastanza spesso Con mio padre E Ogni tanto Mi addormentavo anche Mi ricordo Questa Questa cosa Che era A certi momenti Era molto rilassante Avevo un po' di abbiocone Ma non perché fosse brutto Era solo Sì A un certo punto Andavi vestito Come si vede nei film Con il vestito buono No No Ma cioè Sì No No Normale Dai Adesso Niente Non andavo vestito Con la Con la Con la maglietta Dexploited Ma insomma Ero vestito Io una volta Conobbina ragazze Che mi disse Che ogni tanto Andava all'opera Quello Sai che Lì non ci sono mai andato Magari andava all'opera Pure con Con il binocolino Quello che sta appeso Alla picella Vediamo un po' No Quello Quello mai fatto Prima o poi Magari si Io nella mia vita Mi sa che sono andato Solo a un concerto Dei Subsonica Una volta Madonna Santa Bruna Adesso Io ne ho visto Due dei Subsonica Invece Vedi Tiramenti che ci sono stati Sì Ma io ne ho visto Anche altri concerti Se avessi visto Sole Subsonica Una volta Mi sarei sparato Un po' di Sì Mi prende male Vabbè Dai Magari Vabbè Come? Scusa? No che ne ho visti parecchi Ma un po' di anni fa Ne vedevo veramente Tanti Dei Subsonica? No di concerti In generale Ah ok Che festival Che festival Di tre giorni Cioè così Gli ultimi Non mi sono comprato Il cazzo Devo dire Non so dirti Io quando Degli esseri umani Degli esseri umani Più che altro Non dei concerti No a me piace Tantissimo stare in mezzo Alla gente Soprattutto Anche i concerti Non ti so dire Cos'è che mi ha fatto calare Probabilmente Quando hanno iniziato A salire molto Di prezzo Perché a me capitava Non so anche in settimana Partivo Andavo a Milano Non so a vedere Poi si faceva tardi Il giorno dopo il lavoro Era Però andavi Nel concerti Più piccoli Così Senza andare In megaconcerti Quindi durante l'anno Comunque Ne vedevo parecchio A un certo punto Proprio Ho smesso Ma non so dirti Se era per il prezzo Che è aumentato parecchio Da un bel po' di anni Boh Forse sono solo invecchiato Che concerto vorresti andare Magari è la vecchiai Ho ancora in ballo Allora Avevo comprato i biglietti Per il concerto dei Tool Qua A Zurigo Eh Ho fatto i biglietti Dovevo andare con un amico Quest'amico alla fine Mi dice Guarda Devo dare un concorso pubblico In quei giorni Che avevo comprati Mesi prima Bei biglietti Sai Spalti Posto laterale Carino Quindi ho speso Un po' di soldi Non posso più Dato va bene Allora mi scrive Tipo Qualcuno vuol venire Il colegi nostro Mi scrive Ma forse potrei andare io Al concerto E niente Alla fine Neanche il colegi nostro è venuto Io da solo Boh Nel senso Nessun problema Sono andato da solo in sé Però non stavo benissimo Proprio quel giorno Non era un grande giorno E quindi ho detto No da solo Non è Non è cosa E quindi mi sono posto il concerto E ho i biglietti Intonsi Proprio E mi è rimasto qui Proprio Nel 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 groppone Quello E i Kraftwerk Anche Quello che ne rimane Almeno Invece sono andato a vedere Una volta Uno spettacolo Di Beppe Grillo Eh beh Allora Però non erano Di quelli Dove si metteva La canna del gas Ah questa è una macchina Ed è una macchina idrogeno Fanno a vapore Acqua E poi si metteva Ma forse Va bene Va bene E Dai direi che abbiamo parlato tutti Io Per fare una robina veloce Vi consiglio un canale Vi consiglio due robe di youtube Un canale Intanto Fauda Magari se non ne parlo la prossima volta Ne faccio un Un extra credit Sul canale telegram Però Vi consiglio di provarlo È veramente Una serie Una serie Che a me personalmente Mi fa ribrezzo Per quello che si vede Però Ti tiene incollato Anche perché C'ha una È un po' come The Walking Dead Che ogni puntata Finisce con Il cliffhanger E quindi Una tira l'altra Però di buono C'ha che in mezzo È anche Interessante Invece di The Walking Dead Che invece Tende un po' a A sfilacciarsi Nel mezzo Delle puntate Però poi Ne riparlo magari meglio Una prossima volta E vi consiglio Due robe su youtube Uno È un Forse il mio ultimo concerto È stato nel 2015 Nine Inch Nails C'è cacchio Complimenti Brothers Non sono sarcastico Visti Manca rob Ho visto Due volte le ho visti Tu le Nine Inch Nails Mi sarei Toccato Duramente Però vabbè La vita è ingiusta E purtroppo sì No Vi consiglio Questo video Che si chiama History of Undeadness In videogames Che parla di Una roba Ecco Qua si vede anche Red Dead Redemption Tra l'altro Parla di come viene gestito Il fatto di essere Mancini Destri O ambidesti Nei videogiochi Perché c'è il problema Tecnico Che quando ci sono Le coperture Nei videogiochi Se uno è destro E si sporge a sinistra E viene risolto In vari modi Ci sono quelli Che proprio si tolgono Completamente dalla copertura Quelli che cambiano mano La maggior parte Molti cambiano mano Per esempio In Gears of War Se ci avete mai giocato Se ci avete mai fatto caso Quando il personaggio Sta in copertura Se ti muovi a sinistra Prende la pistola O l'arma Con la sinistra Se ti muovi a destra Il contrario Quindi Fa così E' un video Di 1 ora e 45 Che parla solo Di questa cosa Facendo esempi Cioè esempi Di tutti i tipi Di Quindi potrebbe Interessare Se siete appassionati Di armi Perché Parla proprio di Tipo il fatto Che le pistole Comunque Sono fatte Per essere impugnate Con la mano destra Perché hanno La sicura Sulla sinistra Che va attivata Col pollice E cose là E molti giochi Questa cosa Non la tengono In considerazione Quindi quando Vengono presi Con l'altra mano La pistola Semplicemente Si specchiano Tutte le animazioni E Oppure A chi come me E' interessato A sti dettagli Che per me Sono molto interessanti Ma chissà Di History of Undeadness In videogames Ve lo consiglio Comunque Tutto il canale Molto bello Face full of ice C'ha una thumbnail Un po' inquietante Di sta donna Con tutti gli occhi Che le spuntano Dappertutto Ma vabbè E poi Un altro canale Che vi consiglio The Cavernacle Che è un canale Di sinistra Di quelli Cavernacle Cioè di sinistra C'è questo ragazzo Che fa Commenta Tutte le robe Di destra Quindi Per esempio Ho scoperto Che Chris Pratt Quello dei Guardiani Della Galassia E' un super conservatore Cristiano Che Che dice Come noi insomma No ma Tipo che Che posta Più di noi Si che tipo Posta su Twitter Ah che bello Stamattino Mi sono svegliato Mi sono andato A fare una bella corsa Mentre sotto Sentivo un po' Di Christian Rock Quindi Oppure Parla di Ma si ma lui Mi ha sempre saputo Un po' Anche dai tempi Di Park Mi ha sempre saputo Un po' Di rincoglionito Sinceramente Non lo so tutto Perché non l'ho visto Tutto il video Di Chris Pratt Però c'è il video Anche su John Tron Cioè sono quelle robe Che un po' Si John Tron Si è smardato Tantissimo Con quelle cose Sugli immigrati Pur essendo lui stesso Come dire Non proprio Di pura razza ariana Diciamo Infatti io gli ho tolto Prima lo seguivo E poi gli ho tolto No gli ho tolto il saluto Gli ho tolto il coso Tutto E consiglio anche a voi Di farlo Poi Jordan Peterson Il tizio che mette il sale E insomma Tutti i testi Si è seguiti un po' Di Di sti personaggi Dello YouTube Anglosassone È un po' Gossip È un po' Roba di sinistra È un po' Analisi politica È Lo sto sentendo In questo È buono anche Perché pure questo Si può sentire Mentre fate altro Ovviamente In inglese E anche per rimanere aggiornato Su tutte le robe Di tutti questi personaggi Che magari qua da noi Non arrivano Perché abbiamo già Tutta la nostra fauna Però io personalmente Non li seguo più di tanto Quelli italiani Perché sono Super esterofili Ovviamente Parla anche di Elon Musk Della ragazza Di Elon Musk Grimes C'è tutto un video Di lui Su lei che prima Era comunista E ora non è più Tanto comunista E tutte queste cose qua Che ha fatto Tron Ma è Credo che Cioè È stato tipo ospite In un podcast E ha detto Che non lo so Tipo i neri Sono più criminali Però Si ha detto Razzista Contro gli immigrati E diciamo Che essendo io Un immigrato Un po' Mi fa incazzare la cosa Quindi Ma non credo Che si riferisse a te Perché tu No 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 Nel senso Sì ma stavo facendo Le classiche cose Che C'è Da 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 persona Che è ignorante Sugli immigrati Eccetera Lui l'ha fatta Nel suo contesto Ma L'equivalenza Cioè se fai l'equivalenza Io non è che sia molto diverso Da quelli che hanno Ma lo sai che Cioè Non sei Sì anche tu Un po' più criminale Della media Ah io Io sì sicuramente Lo sapete Beh vabbè Io poi Questa cosa della pirateria Poi figurati Non lo so Stai Io onestamente Ultimamente Non le trovo così Cioè Sto cominciando A diventare Sai che quando si invecchia Si diventa più conservatore Quindi Eh sì Non C'è tante cose Per cui si scandalizzano Specie Questi Di youtube Di sinistra Io Un po' Le trovo un po' A volte Le trovo un po' Esagerate Cioè A parte che poi Sono sempre uno Che cerca di Comunque capire Il punto di vista Anche quando è sbagliato O comunque ritenuto Sbagliato Però Ecco Questo è uno dei momenti Aladino Banfi Che diceva prima Quindi Alla zanzara Dice brothers No La zanzara No Vabbè La zanzara Diciamo E di destra E di destra Cioè E a politica La zanzara E a politica Sì È solo brutta E Però Lì c'è proprio il gusto Di fare di ogni cosa Provocazioni Personali Che ci sta anche Perché comunque Si fanno tanti Tanti ascolti Tante cose Facendo le provocazioni E cose Quindi dovremmo un po' Dovremmo litigare Un po' No No Litigare Provocare Ci vorrebbe La dinamica Cruciani Parenzo Abbassi I micro Però Cioè Io sono Come su certe cose E poi siamo d'accordo Capito Non ci riesco Dobbiamo trovare qualcosa Su cui non siamo Troviamo Esatto Qualcosa Allora O ci organizziamo Di merda Esatto No vabbè Quello puoi dire Quello che vuoi Non frega niente Dobbiamo trovare Cosa altro Forse Boh Ci organizziamo prima Facciamo così Ci organizziamo prima Troviamo una roba Troppa fatica Troppa fatica Come fanno alla zanzara Guarda La cosa più Semplice Che ti fa Una mezz'oretta di sonno Prima che ti porta la puntata Così magari mi sogni Ti incazzi Sì ma anche Qual era Ma noi Cioè L'incazzatura mi è durata Tipo dieci secondi E poi ho realizzato Che era un sogno Anni dieci secondi Povero Bruno Sì sì Otto milioni Di attrattatori Non lo sai perché Stefano a volte L'inconscio Rileva robe Che Consciamente Non si Quindi Che sai Magari Ma chi lo sa Magari Ti stanno mettendo in guardia Contro Contro Un nemico Contro di te Evidentemente No ma figurati Ma poi io te lo dio Sogno gente random Cos'è ram Ma proprio gente Che non c'entra niente Che fa cose Che non c'entrano niente Con la loro vita Quindi insomma Dice brothers Spesso perché le polemiche Della sinistra Su internet Sono veramente basate Sul nulla Purtroppo Guarda Dipende Dalla sinistra No beh Tipo social justice Warrior A volte Spesso Sul nulla Non c'è poco da fare Ma guarda Io personalmente Alla fine Purtroppo Tu lo si Esatto Vedi vedi Già su questo Io mi sento insultato Adesso è tardi Adesso è tardi Ce la teniamo No La prossima volta Poi ci litighiamo Ci organizziamo Prima con quelli Della zanzara Allora Tu litighi su questo Con me Io su quello Con te C'è qualche chiamata Ai casi umani Sì Sì Chiamiamo Chi è che c'è ancora Aspetta Chiamiamo Rob Ad esempio Ecco Stavo perdendo io E infatti ho detto Ma voi li ascoltate ancora Per curiosità No Io li ho mollati Dal menotto 6-7 anni Oh io È Bruno Guarda me lo ricordo Da quando è morto Buon anno era Buon anno Che testa Della Liga Sì Lui E lì hanno detto Esplicitamente E no Perché sai Noi ci mettevamo d'accordo Prima Su cosa è Ho detto Vabbè dai ragazzi Ormè l'avete pure detto Adesso È Il livello di ridicolo È È Overnight Housand E dico Ok A posto così Basta Ciao Arrivederci Tanto fanno più danni Che altro Quelli Guarda Sì perché C'è Intrattenimento Ma C'è comunque Su serio Purtroppo Esatto Nel senso Loro di per sé Fanno Fanno anche bene Di per sé Come cosa Esatto No il problema È sempre Chi Li prende Troppo su serio E poi Magari Fa stronzate O dice O dice O dice stronzate Insomma O chi ci rimane secco Nel suo personaggio Pensa appunto A quello che Che è mancato Perché Novax Eccetera Lui si è rifiutato Di fare tutto E C'è rimasto Ma ho visto Che c'è la polemica Su Madame Non ho capito Chi ha fatto Madame Finto Vaccinazione Finto Green Pass Roba così E ora si sta vaccinando Invece Sì esatto Adesso ha detto Che lei è cresciuta In una famiglia Che In seguito Non so cosa Aveva dei dubbi Sui No Non si fidavano più Di medici In famiglia Di un medico In famiglia E si ritorna Lino Banfi Va bene Ragazzi Questa è la puntata Numero Matteo Ciao No E la puntata Numero E numero Ciao E numero Ciao Che numero è Non lo so io C'è scritto Guarda Guarda su Twitch 523 Oh 500 Non te la si fa L'ho tolto dall'imbarazzo Dai Grazie Che come Matteo Era distratto Stava pensando Però non si suggerisce Per questa volta Pazza Però non si suggerisce 523 Di FreePlaying Io sono stato Bruno Ciao Bruno Ciao Io sono stato Stefano Di Retrocast Ciao Bruno Grazie per Ciao Rob Di NG Plus Italia Ciao Grazie a voi Grazie a te Ma non di NG Plus Spagna Eh no No Che sarà poi E che sarà poi NG Pach Abbonatevi su Twitch Complicando E niente Ciao 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 Ma Dobbiamo decidere a chi fare il ride Di FreePlaying Sarà Rob A decidere No Sarà Rob A decidere Rob Chi facciamo Round 2 Podcast VR Italia Scusate a marrone Dite che vi manda piccone Per fare Sì 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 Alla prossima Fate ciao Ciao Ciao